Grazie a tutti. ...della quale faceva parte, ad esempio, l'ingegner Candreva che ho qui a sinistra. Quindi in realtà sono tra amici, diciamo, perché anche l'INAIL ovviamente ha fatto parte integrante della mia attività istituzionale, naturalmente come partner privilegiato, e parto dal ringraziamento degli amici. Quindi ringrazio l'INAIL per aver ospitato questo evento e anche avermi tollerato come moderatore del pomeriggio. E quindi ringrazio Assomusica, con la quale ho un'attività di tipo professionale, quindi svolgo un'attività di consulenza, in particolare avendo collaborato alla Circolare, di cui tra l'altro oggi pomeriggio parleremo. La mattinata, la quale purtroppo per impegni precedenti che non ho potuto rinviare, non ho potuto assistere, comunque mi sono fatto fare una relazione dettagliata, non dividerò da chi, e evidentemente ha illustrato quelle che sono le tematiche di ordine generale relative alla salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere. La sessione del pomeriggio, e quindi io pochissimo dedicherò all'introduzione, vuole essere una sessione tecnica. Noi vorremmo che fosse il luogo di discussione di questioni di natura tecnica legate a una corretta gestione della salute e sicurezza negli spettacoli. Quindi questo è assolutamente fondamentale perché i profili tecnici in una materia come la salute e sicurezza sono a loro volta dei profili prevenzionistici. Quindi i due aspetti, la prevenzione e la tecnica nella gestione della salute e sicurezza, sono due aspetti che sono intimamente connessi. Questa cosa non la sapevo, l'ho imparata quando sono entrato al Ministero piano piano interfacciandomi con le persone che hanno competenze sulla materia, che ha e a maggior ragione vale in una materia specifica come quella degli spettacoli. Quindi i interventi, io pregherei tutti i relatori che ringrazio per essere intervenuti, per aver accettato l'incarico, per il loro conto naturalmente di essere brevi. Guardo Michele perché di solito non lo è, quindi con un'aria anche terroristica in senso buono ovviamente. Gli interventi dovrebbero rimanere nell'arco dei 15 minuti e quindi devono rimanere nell'arco dei 15 minuti. Io non farò nessun tipo di commento, salvo che non mi scappi, come se fosse un bisogno fisiologico. E cercherò semplicemente di lasciare spazio ai relatori, perché poi vorrei che ci fosse anche una sorta di stimolo per il dibattito finale, al quale vi invito naturalmente a partecipare con la massima disinvoltura senza farvi condizionare dal fatto che siamo collocati un po' più in alto, ma per ragioni diciamo così tecniche. Quindi io passerei la parola al primo dei relatori, come da programma, che è il più volte evocato, l'ingegnere Michele Candreva, che è il coordinatore della divisione terza, della direzione generale relazioni industriali e rapporti di lavoro del Ministro del Lavoro, perché ci parli molto rapidamente di quello che è lo stato dell'arte relativo al decreto cosiddetti palchi. Quindi pregherei l'amico Michele di procedere a questo tipo di esposizione. Spiegaci in particolare qual è lo stato dell'arte relativo al decreto interministeriale sulla gestione della salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere, ma immagino che tu parlerai solo degli spettacoli, e anche le ragioni della circolare che avete emanato, che è stata emanata in data insospettabile, credo la notte di Natale dell'anno scorso, esplicativa rispetto alle tematiche più tecniche del decreto palchi. Seguiranno ulteriori interventi, in particolare, e mi fermo qui nella esposizione iniziale, ci è sembrato giusto che la posizione del Ministero del Lavoro fosse in qualche modo poi alla fine eseguita dall'esposizione di quelle che sono le posizioni dell'Inail, ovviamente, rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro in questo settore, da un ingegnere di grandissima competenza come l'ingegnere Sassone, che abbiamo qui a destra, che ci parlerà di un profilo tecnico. La posizione invece di Morone, per quanto concerne la ASL, e quindi in realtà il sistema delle regioni, che sappiamo, stamattina sicuramente ne avete parlato, è fondamentale in materia, da Alberto Artese di Assomusica, col quale ho lavorato sul circolare Assomusica, perché ci possa spiegare perché la circolare non è Assomusica integrativa rispetto a quella del Ministero, e qual è la posizione di chi al settore appartiene, perché sta sul campo. Poi abbiamo Lucchesi dell'Inail, che interverrà, e le conclusioni le farà il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Vorrei mantenere questo piccolo anticipo con il quale abbiamo iniziato il pomeriggio, e quindi chiudo da dove sono partito, che i relatori rispettino i tempi. Altrimenti io mi agito, siccome sono grosso, non fate finta di non vedermi. Grazie, grazie all'Inel per aver messo su, all'Inel è ad Assomusica, per aver messo su questo interessante seminario, perché, come è stato detto già stamattina, ci consente la possibilità di scambiare un po' di idee. Questa forse è la cosa fondamentale di questo seminario. Nella realtà, solo per rispondere a Lorenzo, il 24 dicembre, nella realtà come i componenti che sono qui presenti, alcuni di coloro che hanno proprio fisicamente contribuito a scrivere sia il decreto che la circolare sono qui presenti, sanno che effettivamente la circolare l'avevamo licenziata come gruppo di lavoro molto tempo prima, dopodiché ci sono stati ulteriori vagli in pratica, per cui è solo un caso, immagino, che sia stata pubblicata in quella data. E comunque ci auguriamo che sia di buon auspicio. Il mio compito oggi è quello di, in questo quarto d'ora, e spero di non superare il quarto d'ora assolutamente, è quello di illustrare un po' il decreto nei punti salienti, in pratica, e anche la circolare. Naturalmente, molte di queste slide le salterò, qualcuna però, consentetemi di evidenziarla un po' di più, anche perché ritengo siano abbastanza interessanti. Poi il mio costume, quando non sono slide che ho fatto io, c'è sempre giù in basso la fonte da cui proviene. Bene, questa slide a suo tempo mi ha incuriosito. Nel 2010 gli infortuni, circa 800 mila sul lavoro, sono costati all'Italia circa 24 miliardi di euro. 24 miliardi diviso 800 mila infortuni rappresenta un'incidenza di 30 mila euro. Se noi, grazie al contributo di oggi, riusciamo effettivamente a far passare questo messaggio di formazione e di informazione, e riusciamo a contribuire a questa riduzione degli infortuni, ebbene, voi capite bene che in questo momento storico, dove c'è tanto bisogno di lavoro, riusciamo anche a creare qualche posto di lavoro, piuttosto che avere degli infortuni. Quest'altra, visto che siamo ospite di INAIL, non potevo che evidenziarla, perché qualche anno fa ho avuto il piacere di partecipare insieme al direttore generale dell'INAIL ad un convegno tenutosi esattamente l'8 giugno del 2012, e ha evidenziato questa slide. Per ogni euro investito, oltre 2,2 euro guadagnati. A sua volta è una slide che deriva dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, un convegno che si era tenuto un po' di tempo prima, a livello internazionale, 22 settembre 2011. Naturalmente non mi dilungo più di tanto, ma questo è solo per evidenziare che evidentemente da più parti si evidenzia questo beneficio nel momento in cui investiamo in sicurezza. E allora benvenga a tantissime cose, tra cui, evidentemente, quello che stiamo facendo oggi, informazione, formazione e addestramento. Decreto del fare e Jobs Act. Io penso che tra i vari obiettivi che hanno questi due decreti, o meglio, che ha avuto ormai il decreto del fare e che sta per avere anche il Jobs Act. Noi stiamo lavorando, come è stato più volte detto, sulla semplificazione del testo unico. A mio avviso, semplificazione significa chiarezza da un lato e sistematizzazione dall'altro. Io ritengo che il decreto del fare effettivamente questo ci ha dato come input e ritengo che ci siamo, almeno parzialmente, riusciti. Vi rubo un po' di tempo per illustrare altri due provvedimenti abbastanza interessanti e comunque, almeno questo che abbiamo sotto gli occhi, il decreto 9 settembre 2014, post PSC, PSS, fascicolo tecnico dell'opera, si sposa e viene peraltro richiamato, come avete sicuramente avuto modo di leggere, dalla circolare 35 del 2014 che abbiamo emanato. Nel senso che, naturalmente, nell'andare a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano operativo di sicurezza, senz'altro si può utilizzare anche il decreto 9 settembre 2014 che anch'esso va nell'ottica della semplificazione. Appunto abbiamo emanato i modelli semplificati per la redazione di questi piani di sicurezza. Questa la dico già da subito. Nella realtà, sia nel decreto 9 settembre 2014 e sia nel decreto 22 luglio 2014, quello dei palchi e delle fiere, abbiamo previsto un articolo analogo. In questo caso l'articolo 5, nel decreto invece, nel decreto palchi è l'articolo 10. Cioè abbiamo previsto che entro 24 mesi dall'entrata in vigore, quindi ci siamo presi questi due anni di tempo, ma non è detto che non si possa fare prima, si provvederà naturalmente al monitoraggio di questo decreto e di questi decreti ed eventualmente si andranno ad inserire quelle modifiche che l'esperienza ci chiederà, ovviamente. Teniamo conto che questo è un decreto di pochi mesi fa, in pratica, dal 22 luglio dell'anno scorso, quindi abbiamo, a mio modestissimo parere, abbiamo necessità di farlo lavorare, ancora un po' questo decreto, per poi tirare un po' di somme. Così il decreto, allo stesso modo il decreto 9 settembre 2014. In questo momento storico, e poi non mi dilungo più di tanto, sto cercando di dare qualche informazione in più, stiamo lavorando, ancora una volta, ho omesso di dirlo prima, ma stiamo lavorando in combinato, come si suol dire, in combinato disposto, è molto bene, a mio avviso, veramente a stretto condatto di gome, sia con l'INAIL, e molti dei colleghi sono qui oggi presenti, e sia con il coordinamento tecnico della regione, che ringrazio entrambe. Naturalmente con entrambi abbiamo seguito il decreto sui palchi e sulle fiere, abbiamo condiviso insieme la circolare, e stiamo andando ancora avanti su quel documento di cui parlava il mio direttore generale questa mattina, e cioè su quelle istruzioni che cercano di andare in modo più approfondito per dare delle indicazioni più chiare, più dettagliate, per quanto possibile, per quanto riusciremo nel settore dei palchi e delle fiere. Qui colgo l'occasione, naturalmente, se ci sono dei documenti, ma questo ognuno di noi lo ha fatto, quando dico ognuno di noi mi riferisco ad ognuno dei colleghi dei gruppi di lavoro, cioè sia ai colleghi della regione sia ai colleghi dell'Ine, cioè chiunque può fornirsi dei documenti e senz'altro verranno esaminati e verranno analizzati dal gruppo di lavoro. Visto che ora abbiamo l'opportunità di queste istruzioni che dovranno essere emanate, io mi auguro nel più breve tempo possibile, perché no, se dovesse arrivare un qualche contributo, anche alla luce della chiacchierata di oggi, veramente benvengono. Stavo dicendo, attualmente invece stiamo lavorando, ancora una volta, a stretto condatto con l'Ine e con la regione, peraltro anche con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Agricoltura, in questo caso, sull'attuazione del coma 13 ter della 3,3, cioè procedure semplificate di valutazione dei rischi in ambito agricoltura. Questa era soltanto un'informazione che mi premeva dare. Decreto palchi e fiere. Nella realtà è una problematica che gli addetti ai lavori conoscono, devo dire, già da molto tempo. Questi sono degli appunti che ho ritrovato sul mio portatile. Sono degli appunti che risalgono a febbraio del 2009 addirittura, dove all'epoca, sotto la guida appunto di Lorenzo, dell'amico Lorenzo, dell'avvocato Fatine, stavamo lavorando sulla redazione del testo unico. Io all'epoca ero il coordinatore del titolo 4. Ebbene, il gruppo di lavoro che coordinavo, e qui ho visto poco fa, c'erano anche alcuni colleghi con i quali abbiamo lavorato a suo tempo, avevamo inserito un articolo di questo genere. Cioè avevamo inserito proprio nell'articolo 8 questa lettera H che se vogliamo è stato un po' un precursore del legislatore del decreto del fare. Perché già all'epoca dicevamo che il titolo 4, o almeno avremmo voluto dire già all'epoca che il titolo 4 con questa lettera H si applicava alle attività di montaggio e smontaggio di opere provvisori destinate alle manifestazioni sportive di spettacolo e quant'altro. All'epoca però ci è stato detto che saremmo andati fuori delega in pratica. non avevamo la delega per poter inserire questo tipo di provvedimento. Tanto è vero che all'epoca è stato stracciato comunque ora effettivamente ce l'abbiamo ce l'abbiamo in decreto. Qui ora vado più velocemente anche per motivi di tempo qui volevo somministra di dimostrare come il legislatore del decreto del fare a mio avviso bene ha fatto e a nostro avviso chi ha lavorato all'interno del gruppo di lavoro bene ha fatto ad inserirlo nel titolo 4. Tanto è vero che se si va a vedere il capo di applicazione del titolo 4 poi le definizioni e la definizione di cantiere con il richiamo dell'allegato 10 in allegato 10 si parla di opere fisse permanente o temporanee e che sono appunto le nostre in pratica quelle del decreto per cui effettivamente ci sta e ci sta in toto nella realtà solo per dovere di storia il ministero del lavoro già il primo giugno del 2012 quindi ancora prima del decreto del fare aveva pubblicato una circolare che addirittura ne richiamava altre due una del 9 febbraio 2012 e una del 27 febbraio 2012 eravamo ahimè a valle di quell'infortunio che c'è stato e che è stato giustamente ricordato da Marchiori questa mattina l'infortunio di Trieste ebbene a quell'epoca con questa circolare del primo giugno 2012 si avevano indicazioni sull'attività di vigilanza relative agli eventi culturali di carattere fieristico e dispositivo istruzioni operative e prescrizione e nella circolare invece del 9 febbraio si diceva appunto l'allestimento e il disallestimento di strutture fisse mobile ed impiante tribune palchi eccetera posti in opera in occasione di spettacoli manifestazioni fieristiche diceva rientrano rientrando le citate attività nel campo di applicazione del titolo 4 quindi già dal 9 febbraio del 2012 quindi prima ancora del testo unico il ministero del lavoro effettivamente aveva emanato indicazioni in tal senso come direzione generale e questa è la neunta del 14 marzo 2012 la nostra direzione generale scriveva all'Eneil e scriveva alle regioni proprio per istituire un gruppo di lavoro su questo su questo argomento come ricordava stamattina Martioli 15 giorni dopo in pratica questa nota cioè il 30 marzo noi abbiamo avuto già un primo incontro un primo incontro a Venezia e da lì cominciarono cominciarono le riunioni per il per il coordinamento tecnico delle regioni lo ricordo semplicemente per dovere di cronaca vi ha partecipato vi hanno partecipato una serie di tecnici provenienti dal Veneto dal Friuli dalla Lombardia dal Piemonte dalla Toscana dalla Sicilia quindi bene o male un po' tutta l'Italia era rappresentata in questo gruppo salto le problematiche perché le problematiche sono state ben evidenziate già questa mattina dico soltanto che in quel periodo quando il gruppo si è istituito si è istituito per scrivere degli indirizzi operativi tecnici o organizzativi per l'allestimento e la gestione delle opere provisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli ed eventi semili nella realtà questo documento è stato stoppato poi nel settembre del 2013 perché perché lo stesso gruppo dal settembre 2013 in poi ha cominciato a lavorare proprio a seguito del decreto di fare sulla redazione del decreto che poi è stato pubblicato l'anno successivo anche qui vado molto velocemente e vediamo un po' di illustrare molto rapidamente il decreto è un decreto che è costituito da due cape il capo 1 è quello di cui oggi avrei intenzione di parlare in almeno altri tre o quattro minute il capo 1 è quello che si riferisce ai palchi il capo 2 è quello che si riferisce alle fiere l'ho strutturato in questo modo proprio per evidenziare che c'è una simmetria abbastanza 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 parallela l'articolo 1 parla del campo di applicazione e ci dà anche quelle indicazioni al di sotto delle quali quelle attrezzature quelle opere temporanee non rientrano in questo decreto allora lo dico subito perché il tempo è abbastanza è abbastanza teranno nella realtà noi abbiamo voluto abbiamo voluto normare quei palchi tra virgolette quelle manifestazioni quegli spettacoli musicali di una certa rilevanza di una certa importanza ecco il motivo per cui abbiamo dato quelle indicazioni e abbiamo scritto quei numeri all'interno dell'articolo 1 nell'articolo 2 abbiamo evidenziato le particolari esigenze che sono state richiamate questa mattina molto bene da chi mi ha preceduto l'articolo 3 e l'articolo 4 sono due articoli estremamente importanti a mio avviso perché l'articolo 3 ci va a dire ci va a delencare materialmente quali sono tutte quelle parti del testo 1 in particolare dell'allegato 15 che trovano applicazione nel nostro nel nostro decreto e tutte quelle parti che trovano applicazione per quanto riguarda il capo 1 in particolare del titolo 4 l'articolo 4 invece di questo decreto ci dice quali sono tutte quelle parti che trovano applicazione nel nostro decreto per quanto riguarda il capo 2 del titolo 4 quindi anche qui si è cercato di inserire delle semplificazioni una per tutte molto banale ma per essere tiane è ovvio che rientrando nel titolo 4 ci sono una serie di adempimenti tra questi adempimenti per esempio ci sarebbe stato anche l'adempimento della redazione del fascicolo tecnico dell'opera ebbene in sede di gruppo di lavoro come facilmente intuibile abbiamo detto che in questo caso il fascicolo tecnico dell'opera non trova applicazione per un motivo molto semplice perché come è stato detto stamattina e come viene detto molto bene a mio avviso nell'articolo 2 sono delle opere che durano 2, 3, 4 giorni al massimo materialmente poi vengono montate poi vengono rismontate a quel punto molto probabilmente non ha nessun senso avere un fascicolo tecnico dell'opera cosa che viceversa ha molto senso averlo in un edificio che ha magari una vita stimata di 50, 60, 100 anni materialmente eccolo qui che a quel punto il fascicolo tecnico dell'opera è estremamente utile e importante da redigere non vado avanti sugli allegati e cerco di andare anche molto rapidamente sul campo di applicazione evidenziando semplicemente che nell'articolo 1 vengono indicate viene indicato appunto il campo di applicazione ma soprattutto nel comma 2 vengono indicati tutti quei casi che non rientrano al di sotto dei quali non rientrano in questo decreto evito di leggervi materialmente ed evidenzio se ci riusciamo con i potenti mezzi ed evidenzio alcune fotografie che forse sono più chiare delle parole nella realtà come dicevo prima volevamo evitare di occuparci di palco di questo genere cioè anche questa è una slide che ho preso da un intervento è stato citato da Martiori stamattina dal collega ingegnere Renzo Simoni che ha partecipato alla redazione sia del decreto sia della circolare giustamente non volevamo andare a normare il palco della festa parrucchiale oppure come dice l'amico Renzo Simoni neanche il palco del concertino della scuola oppure altri palchi di questa tipologia di questa dimensione anche questi sono esclusi dal nostro decreto ci siamo ci siamo viceversa ecco questi sono quei palchi di rilevanza di una certa importanza questi sono i palchi che avevamo e che abbiamo avuto intenzione di andare a normare come vedete questi palchi per essere mondati vengono mondati magari da delle vere e proprie gru che non hanno da invidiare ad un cantiere di dimensioni come vedete anche abbastanza significative di svariati metri di altezza non ultimo ecco questo per la verità le ho tratte proprio stamattina devo essere sincero da internet in pratica ho inserito sulla voce torri e palchi e mi sono venute fuori queste foto che sono veramente interessanti per quanto riguarda il tipo di zavorra che viene utilizzata in alcune case mi avvio mi avvio veramente a conclusione naturalmente devo saltare per forza di cose una serie di cose e vado in modo particolare alla circolare applicativa abbiamo cercato di chiarire con la circolare con il decreto il tema dei temi devo dire che abbiamo dedicato non poco tempo alla definizione del committente qui cosa si dice si chiarisce che il committente è il soggetto che esercita concretamente mi ricordo che quando abbiamo scritto questa circolare veramente mi dico ancora un minuto abbiamo centellinato e penso di non essere smendito dai colleghi che hanno partecipato alla stesura del documento proprio quanto tempo abbiamo dedicato si chiarisce che il committente è il soggetto che esercita concretamente la parola concretamente per noi è stata molto importante concretamente i poteri decisionali di spesa siccome appena abbiamo emanato il decreto abbiamo letto anche sui vari blog sui vari siti eccetera abbiamo letto che qualcuno intendeva un conto la titolarità un conto il potere decisionale un conto il potere spesa qui abbiamo cercato non so se ci siamo riusciti ad essere il più chiari possibile il committente è il soggetto che esercita lui solo che esercita insieme i poteri decisionali e di spesa ed è titolare naturalmente per delle attività di montaggio smontaggio e quant'altro eccetera eccetera quindi questo mi premeva in questo momento evidenziarlo in modo chiaro e netto e chiuderei con questa con questa slide qualunque sia il tipo la leggo perché ritengo sia sia meglio qualunque tipo qualsiasi qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui gli articoli 90 e sappiamo bene sono gli obblighi del committente all'articolo 93 le responsabilità dello stesso committente all'articolo 99 gli obblighi di notifica preliminare all'articolo 100 il PSC e all'articolo 101 gli obblighi di trasmissione quindi se abbiamo voluto dare un suggerimento ecco oltre a dire colui che esercita concretamente i poteri decisionali di spesa in ogni caso chi fa queste azioni che sono degli obblighi articolo 90 93 99 100 101 certo ci aiuta senz'altro ad andare ad individuare chi è il committente l'ultima informazione che do è che in linea ovviamente non può che essere così con il mio direttore generale effettivamente in questi giorni noi abbiamo già se non vado errato la prossima riunione ce l'abbiamo mi pare il 19 il 20 insieme ai colleghi dell'INE e ai colleghi della regione dove naturalmente andiamo che cosa abbiamo fatto nel tempo una volta che abbiamo emanato il decreto il decreto intermissioniale una volta che abbiamo lavorato sulla circolare abbiamo riesumato quel vecchio documento da cui eravamo partiti materialmente il documento al momento porta il seguente titolo all'estimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali cinematografici teatrali di manifestazione fioristica alla luce del decreto 22 luglio 2014 indirizzi operativi e tecnico organizzative io vi lascio con questa slide senza leggere questa è la slide naturalmente questa è ancora in fiera in pratica quindi al momento questo è l'indice del documento su cui su cui stiamo lavorando e ci auguriamo e guardo due delle persone che fanno parte del gruppo ci auguriamo quanto prima di pubblicare anche questo documento grazie grazie a te Michele per avere anche stretto i tempi ti ringrazio molto il tuo contributo è assolutamente fondamentale ci tenevamo a sentirti tutti quanti allora io ho detto non avrei detto nulla certamente il tema dell'identificazione del committente è un tema molto delicato molto avrei da dire ma mi sto zitto perché altrimenti poi vengo meno alla mia promessa che ha molto a che fare col principio di effettività della normativa antinfortunistica a mio parere quello che avete scritto nella circolare è utile ma non è assolutamente dirimente ma rimane un problema aperto non è che è assolutamente qualcosa che possiamo risolvere con una circolare secondo me si risolve con un intervento normativo molto coraggioso peraltro che abbia il coraggio di andare nella direzione del sistema però adesso questa è la mia opinione personale poi magari approfondiamo nel dibattito sugli aspetti che sono relativi all'identificazione e alle responsabilità del committente legate al principio di effettività della normativa antinfortunistica 299 per chi conosce l'81 adesso io darei la parola per un intervento sulle opere temporanee caratteristiche tecniche modalità di verifica all'impegno e di corretto montaggio al Luigi Cortis che è dirigente di ricerca del dipartimento innovazione tecnologica per la sicurezza degli impianti prodotti insediamenti antropici più lungo non può dare fare come si dell'INAIL che è un tecnico molto brevemente è un tecnico di altissimo livello e ci farà un discorso tecnico anche a lui chiederei la stessa sintesi anche migliore rispetto a quella fatta da Candreva grazie ci provo grazie il mio intervento è prettamente tecnico riguarda le opere temporanee ovviamente primo aspetto caratteristiche tecniche modalità di verifica all'impiego e modalità di corretto montaggio è un intervento tecnico e io dico sempre che quando parliamo di aspetti tecnici io credo che ci siano sempre soluzioni io provengo da un settore sono nato e provengo da un settore quello aerospaziale dopo le criticità sono all'ordine del giorno li abbiamo sempre risolte i problemi a mio avviso sono di carattere programmatico politico economico e quant'altro e quindi e di responsabilità quindi dal punto di vista tecnico ritengo che non ci siano problemi io dico che lo spettacolo deve essere parto un po' distante cercherò di essere veloce deve essere una festa uno stare insieme per degli obiettivi comuni e non deve essere una tragedia questo è l'obiettivo bene dovrei parlare di caratteristiche delle opere temporanee ovviamente la prima cosa spontanea è che non devono collassare non devono creare un incidente non ci devono essere morti non ci devono essere feriti come vedete accadono queste cose e qui abbiamo una carrellata veloce abbastanza significativa negli state presi a caso Toronto Michigan 2010 Mexico City 2010 Oklahoma 2010 Oklahoma 2008 Atlantic City 2003 e quindi ci sono state una serie di problemati e quindi ma anche in Italia noi dovremmo partire da qua almeno noi Trieste Reggio Calabria e come vedete il problema in effetti c'è bene allora io dico un'altra cosa importante a rendere possibile questa realizzazione di palchi pesanti alti insomma di una tecnologia abbastanza importante e sono le maestranze ad alta professionalità non dimentichiamoci di questo che non compaiono sulla ribalta dello spettacolo ma che amano il loro lavoro quanto gli artisti dello spettacolo io mi rendo conto che fanno un lavoro almeno dal mio punto di vista grazie interessante ve lo posso dire io da giovane ho fatto il pilota quindi acrobazie e quant'altro scusate se parla un attimo di me ma mi rendo conto cosa significa poi salire in quota arrampicarsi e quant'altro uno si sente proprio portato per queste cose bene sono queste le persone che io intendo che sono importanti le vedete sono queste altre persone quindi si arrampino in quota come vedete le potete trovare sul sito internet da tutte le parti ma sono anche queste altre persone che non salgono in quota ma lavorano a terra quindi anche loro sono importanti quindi quando dico non deve collassare questa è la prima caratteristica tecnica a mio avviso è una cosa banale di tutti i giorni che anche la casalinga penso l'uomo della strada possa interpretare bene un'altra caratteristica importante dell'OT non è l'opera temporanea di per sé ma è il sistema OT il sistema OT cioè il palco con il sito viaggiano insieme questo edificio viaggia con il suolo su dove è stato installato e così l'opera temporanea sui suoli dove andrà a essere installato questa è la seconda caratteristica sono caratteristiche intuitive ma che il progettista poi dovrà tenerne conto un altro punto di vista è questo le caratteristiche dal punto di vista dell'uso e il decreto le ha evidenziate sono opere temporanee dal punto di vista dell'uso modulari trasportabili smontabili e montabili e reimpiegabili e questo deve essere nel tuo conto nella progettazione velocemente ci sono diverse tipologie costruttive che sono importanti si utilizzano tubi verticali tubi orizzontali ma anche strutture già prefabbricate sono due tipologie costruttive dei palchi ambe due hanno la loro importanza qui le vediamo i palchi possono essere realizzati con pedana con elementi di ponteggio strutture verticali con elementi di ponteggio e così via ma abbiamo anche strutture prefabbricate integrate ognuno con delle caratteristiche e bisognerebbe scegliere quella che per quella soluzione per quella situazione specifica ci dà meno problematiche per dal punto di vista della sicurezza del lavoro vediamo qui un ponteggio multidirezionale così quindi è una serie di aste verticali orizzontali collegate fra di loro ce ne sono altri sistemi integrati che vedete qui in cui tutto il sistema viene montato a terra installato con i vari sistemi luce e quant'altro e poi viene sollevato questa è l'innovazione tecnologica quindi un'altra caratteristica importante da tenere presente dal punto di vista tecnologico ci sono oltre i palchi anche le strutture oselari anche loro entrano in questo contesto e quindi dobbiamo tenere conto anche di questo progettazione la progettazione vado veloce scusate non mi soffermo importante è l'aspetto strutturale di stabilità abbiamo detto importante le caratteristiche del sito la tipologia dei carichi e la tipologia strutturale come abbiamo visto la progettazione ovviamente deve tener conto della sicurezza del lavoro per questo deve intervenire il coordinatore in fase di progettazione e il progetto dei palchi e delle strutture oseliarie deve essere corredato da indicazioni procedurali specifiche circa il posizionamento e la tipologia dei vincoli le sequenze di montaggio e di smontaggio e il piano degli appendimenti a cui l'impresa assemblata di cedera a tenere scruposamente conto abbiamo detto il sito è un altro aspetto importante perché dobbiamo evitare pressioni specifiche se è il suolo importanti di cedimenti differenziali bisogna avere se ci sono sottoservizi di qualsiasi genere se ci sono problematiche di cavi aerei elettrici e quant'altro e devo dire che il suolo è importante anche se non si vede perché è un terreno quindi può essere un terreno di riporto avere certe caratteristiche quindi il sito è veramente importante bisogna particolare attenzione bisogna dare anche se è più per esempio un'altra caratteristica se il sole è ghiacciato e se potremmo pure montarla su una superficie in calcestruzzo superficie similare o asfalto ma bisogna dare conto per esempio faccio esempio dello spessore è importantissimo anche su un banto d'erba bisogna vedere un attimo il sottosuolo di che consistenza quindi tutta una serie che sto accennando ma che la progettazione sicuramente può risolvere bene queste le caratteristiche in generale per quanto riguarda la caratteristica verifica l'impiego di corretto montaggio vediamo le modalità di verifica l'impiego ho pensato un attimo e ho detto un attimo idoneo all'impiego quando questi sono i punti chiave a mio avviso è realizzato in accordo a un progetto si presume che il progetto abbia tenuto conto di tutta una serie di problematiche deve essere montata e si è montata sempre in accordo alle istruzioni del fabbricante e del progettista deve essere utilizzata in accordo alle istruzioni ovviamente il progettista e il fabbricante come vedete deve essere immagazzinata e trasportata sempre in accordo a quelle istruzioni deve essere ispezionata e controllata sempre in accordo a queste istruzioni deve essere manutenuta in accordo a queste istruzioni ed eventualmente riparata e garantita dal fabbricante o da lui da persona qualificata questa per me è una modalità di verifica l'impiego se ci sono almeno queste condizioni probabilmente siamo sulla strada giusta potremmo discutere aggiungere qualcos'altro modificare però questo è il messaggio che intendo dare io personalmente poi c'è l'ispezione controllo e manutenzione le modalità devono essere definite dal costruttore dal progettista e devono definire livello e frequenza inclusa la manutenzione gli elementi e i componenti dei ispezionari devono essere individuati dal fabbricante e dal progettista e comunque devono essere inclusi tutti quegli elementi che hanno un decadimento dei requisiti iniziali devono essere ben individuati in base a diverso tipo di sollecitazione dinamica quello che sia statica e quant'altro e fermo restando a mio avviso le indicazioni del fabbricante e del progettista un valido riferimento come abbiamo sempre detto sono le verifiche dell'allegato diciannomesimo che riguarda la verifica della sicurezza sui ponteggi metallici fissi io aggiungo anche un'altra cosa ulteriore riferimento per quanto riguarda l'ispezione e le verifiche si possono prendere una serie di documenti tecnici e di progetti di norma che possiamo vedere infatti anche da altre istituzioni estere che sono per esempio sono degli esempi il Chen Workshop Agreement 15902 2002 l'UALA Uni un progetto di Uni 501 530 che riguarda i sistemi per pubblico spettacolo specifiche per la progettazione della fabbricazione e le ispezioni di elementi strutturali dell'alluminio anche delle norme americane l'ansia 1-2 del 2012 entertainment technology design manufacturing user alluminio trusses and towers ma questi qui sono tre documenti che in pratica sono quasi tre fratelli gemelli ma insomma si riprendono uno con l'altro e individuano certi requisiti e certe caratteristiche possono essere anche un modo per individuare i riferimenti ispettivi e di verifiche io dico sempre a chi mi conosce una macchina si fa come una macchina un elefante si fa come un elefante quindi se c'è già qualcosa di sperimentato diamogli un'occhiata e cerchiamo di trarre il meglio quello che consideriamo i riferimenti tra i documenti precedenti si possono vedere si può mutuare qualcosa per esempio ci può essere un'ispezione regolare quindi un'ispezione visiva eseguita da persona qualificata dal fabbricante dal datore di lavoro e queste ispezioni possono essere pure registrate o no dipende dall'importanza dell'auti poi un'ispezione periodica che può essere visiva e comunque la periodica deve essere registrata è un'ispezione straordinaria che può essere visiva o strumentale dipende con controlli non distruttivi nel quale quando sono avvenuti ovviamente degli eventi eccezionali con conseguenze che hanno pregiudizio per quanto riguarda la sicurezza possono essere riparazioni trasformazioni incidenti o almeno in attività facciamo conto ogni 5 anni o 10 anni questo uno potrebbe anche in base alle proprie esperienze fissare per ogni tipologia di ispezione è il fabbricante che a mio avviso progettista che deve stabilire parti e componenti la frequenza la frequenza di ispezione bisogna tener conto di installazioni senza funzioni di supporto di parti in movimento e installazioni con funzioni di supporto in parti in movimento sono importanti perché qui ci sono gli aspetti dinamici rispetto ai statici che possono influire e come vedete quando ci sono problemi di parti in movimento l'ispezione periodica può passare per esempio da un anno ma può essere sei mesi e questo è da decidere a tre mesi per esempio perché ci sono situazioni diciamo diverse questo è un esempio preso dalla normazione di modello di verifica di scheda di ispezioni si può andare a visualizzare correnti diagonali quello che volete comunque una metodologia la possiamo anche mutuare vediamo la modalità di verifica di corretto montaggio in questo caso il personale in particolare in questo caso siamo nel cantiere di corremio mobile il proposto dovrà tenersi scrupolosamente alla sequenza di montaggio e dovrà verificare la completezza di ogni configurazione strutturale prevista dal progetto prima di proseguire con le fasi successive quindi step by step dovrà verificare questo perché ogni configurazione parziale può avere una sua criticità è necessario che ci sia previsto un documento venga registrato l'avvenuto controllo e quindi la rispondenza della struttura alle varie configurazioni verifiche durante il montaggio ci sono una serie di punti velocemente manca qualche minuto alla chiusura del mio intervento possono essere gli schemi di installazione le istruzioni di montaggio la documentazione dell'avvenuta verifica e così di seguito e quant'altro alla fine alla fine a mio avviso ci deve essere una dichiarazione di corretto montaggio a firma vediamo qui da decidere da installatore o del direttore dei lavori e la dichiarazione dovrebbe contenere la dichiarazione che le strutture le pedane le impalcature di tutti gli appendimenti siano montati a regola d'arte secondo l'aspetto procedurale previsto dal fabbricante e ci sia una certificazione a firma di un professionista abilitato sull'idea statica del sistema complessivo dei cari sospesi corredata da eventuale documentazione certificata dei singoli componenti se c'è bisogno di una marcatura CE o di quant'altro di quello che è necessario dal punto di vista normativo legislativo io ho finito sono stato veloce quindi non ho potuto soffermare su alcuni aspetti scusate grazie tre motivi di ringraziamento il primo per la tempistica è stato bravo a stare nei tempi poi per la qualità dell'intervento che conferma che non è sempre un intervento lungo e migliore di uno breve è fatto bene anzi io sono convinto del contrario e poi perché giustamente in apertura ha richiamato a tutti noi un dato che tutto sommato io consideravo scontato ma è giusto richiamarlo noi la discussione che stiamo facendo sulla normativa riguarda le persone riguarda i lavoratori e quindi questa è una cosa che è giusta è stato giusto ribadire lo sottolineo perché per una comunicazione a tutti i relatori e a tutti i presenti faremo parlare c'è una sessione che è stata inserita nel pomeriggio rispetto al programma che abbiamo che sarà coordinata dal direttore centrale della prevenzione l'ingegner Rotoli che ringrazio e saluto e che vedrà nuovamente diciamo un passaggio di tavolo molto rapido con i rappresentanti dei sindagati che sono per la CGL Sebastiano Calleri e per la Will Marco Lupi quindi cercherei quindi di sfruttare anche questi minuti per prima del dibattito che io vorrei si facesse perché è importante che ci sia un ritorno anche della platea sia in termini di domande che possono essere fatte per avere risposte operative rispetto ai temi che sono stati trattati nel pomeriggio quindi a questo punto fatta questa rapida digressione passerei la parola per un intervento sui chiarimenti indicazioni su applicazione del decreto palchi all'amico Alberto Artese con il quale ha avuto il piacere di lavorare assieme all'amico Paolo che è in prima fila ma naturalmente ringraziando il presidente Vincenzo Spera perché lavorare con persone di questa qualità per un giurista prestato alla sicurezza è fondamentale quindi gli chiederei più che altro di spiegare in questi pochi minuti quali sono le problematiche che sono state affrontate nella circolare ma in generale se possibile anche qualche accenno ma lo fai sicuramente quelle che sono le criticità relative all'applicazione di una normativa inevitabilmente non pensata per il mondo dello spettacolo grazie ringrazio mi associo a tutti i ringraziamenti già fatti prima di me dal collega Paolo e dal nostro presidente a Ina e a tutti quanti non sono un relatore professionista di solito lavoro sul campo quindi non sarà volevo partire con dei brevi cenni storici un po' da nostalgico dicendo che Assomusica si costituisce nel 1996 e possiamo dire che in quel momento per noi c'è la nascita di un sentimento di identità collettiva e l'inizio di un percorso di qualificazione istituzionale possiamo dire che da quel momento finisce la fase del selvaggio west tra virgolette del nostro mestiere chi lavora sul campo sa qui tra la platea di che cosa stiamo parlando e si può dire che da lì si avvia l'era moderna quasi anche se non contemporanea del nostro settore produttivo taglio un po' di slide altamente non saremo nei tempi per noi la sicurezza nasce come sicurezza per il pubblico nasce iniziamo imparando a occuparsi di sicurezza quando come all'interno del gruppo associativo dell'AGIS riusciamo ad avere dei nostri rappresentanti all'interno delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza la nostra cultura della sicurezza parte con la tutela del pubblico innanzitutto non è un caso credo che intorno al 1996 nasce Assu Musica e poco dopo inizia la stagione dei grandi eventi di massa dei grandi concerti che escono dalle strutture diciamo attrezzate dalle venue come i palasporti e gli stadi e si avviano verso spazi quasi infiniti assolutamente non attrezzati che nulla hanno di già prefigurato predisposto per la recittabilità del pubblico e per l'organizzazione di eventi giganteschi penso per esempio ai 146.000 spettatori degli U2 a Campovolo di Reggio Emilia nel 97 non so se si vede ma questa è una foto dell'epoca anche questa penso all'Eineken Jamming Festival del 98 con 120.000 persone di cui il progettista principale se possiamo chiamarlo così è qua in platea tra di noi e ne sono molto contento questo è sempre un Aniken Jamming Festival da 100.000 persone al Parco San Giuliano di Mestre e questo è un Campovolo 2012 con 150.000 persone è vero noi tutti concentrati a creare a progettare queste città che come le città della Corsa all'Oro e Petrolifere nascono e muoiono in tempo vertiginoso noi non ci accorgiamo immediatamente di quanto si ingigantiscano le strutture gli allestimenti quanto si complichi tutto quanto aumenti il numero del personale impiegato dei lavoratori quanto aumenti tutto quanto in relazione all'intera filiera del settore industriale è vero a mio parere rispetto anche ad altri settori produttivi facciamo non immediatamente caso e sicuramente non abbastanza al fatto che nei medesimi anni nel 96 esce la legge sui cantieri 494 che segue di poco quella che forse la legge più importante sulla sicurezza che è la 626 di due anni prima del 1994 tante cose da allora sono successe alcune molto negative e tragiche sono state più volte ricordate dai colleghi relatori stamattina e anche poco fa ma anche altre positive due facce di una stessa medaglia che hanno determinato da un lato l'assoluta necessità per noi associazione di categoria di intraprendere velocemente una nuova parte del percorso iniziato tanti anni fa occupandoci del pubblico il percorso della formazione di una cultura della sicurezza nel nostro settore ma questa volta dedicato alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dall'altra la parte diciamo positiva è quella di una prima importante approdo a un primo step che è quello se vogliamo che ci ha portati anche qui oggi a presentare un documento voluto redatto da Assomusica con importanti collaborazioni e supervisioni tecniche da Lorenzo all'Asdi Milano e ad altri collaboratori professionisti consulenti della nostra associazione è relativo alla reggente questo documento è relativo alla recente legge dedicata alla salute e alla sicurezza negli spettacoli musicali cinematografici teatrali ed intrattenimento il documento chiarimenti di Assomusica circa il quale andremo a vedere alcuni punti essenziali non lo riporcheremo tutto perché se no ci vorrebbe tutto il pomeriggio nasce da alcuni presupposti piuttosto semplici ma per noi importanti sicuramente mantenere anzi rinforzare quell'attività di trasmissione sviluppo di una cultura della sicurezza sul lavoro negli operatori del settore che formano il nostro corpo associativo ma anche a quelli di cui non ne fanno parte perché no a questo scopo era importante trasportare il testo normativo in un linguaggio più vicino al lavoro quotidiano all'operatività quotidiana del nostro settore al fine di alzerare quanto più possibile il rischio di fraintendimenti integrare il testo il testo della legge laddove è necessario con esempi specifici disegni e fotografie al fine di contestualizzare la norma all'interno delle nostre attività lavorative quotidiane determinare anche univoca e incontrovertibili possibilità interpretative tra gli operatori del settore soprattutto nei passaggi di maggiore importanza quando parlo di operatori del settore parlo degli organizzatori produttori di eventi ma se volete parlo anche di tutto l'apparato ispettivo delle autorità perché non tutti operano nella città di Milano dove non so quale sia la statistica del numero dei concerti in Italia ma è sicuramente quella dove ce n'è di più Roma è uguale poi Bologna Firenze ma non ci sono solo queste realtà ci sono anche realtà che vedono concerti molto di rado e quindi ovviamente fanno patica magari di più sia dalla nostra parte sia da quella ispettiva a entrare a comprendere immediatamente il contenuto delle norme i passaggi di maggiore importanza strategica potrebbero essere questi il campo di applicazione del decreto e i casi di esclusione dal campo di applicazione per esempio la definizione come diceva Lorenzo e l'ingegner Candreva la definizione della responsabilità del committente la definizione e la responsabilità del committente noi abbiamo cercato di richiamare di dare delle spiegazioni e delle interpretazioni richiamando anche le diverse più frequenti casistiche che ne determinano l'individuazione però altrettanto importante è approfondire la tematica che riguarda la verifica tecnico-professionale delle imprese la formazione professionale sia quella specifica dei lavoratori sia quella sulla sicurezza anche con dei riferimenti a particolari lavoratori specializzati come gli scaffolders che sono i montatori dei palchi e i riggers che sono i tecnici specializzati che installano gli apparecchi di sollevamento in quota ma anche la formazione professionale dei dirigenti del settore io faccio il direttore di produzione o il produttore esecutivo io devo sapere tutto o quanto più possibile anche se non sono un architetto o un ingegnere di quello che rappresenta tutto il mondo delle normative e la tutela della salute della sicurezza dei lavoratori nel mio campo così deve farlo il site coordinator che è il coordinatore logistico e via dicendo noi siamo i dirigenti sul campo e abbiamo quella catena su di noi casca quella catena di responsabilità e anche quel principio di effettività in qualche modo che parte dalla figura principe di garanzia della sicurezza sul lavoro che è il comitente abbiamo cercato parlando delle esclusioni anche di sottolineare come la sicurezza vada prima di tutto ma sia che si tratti di regime di titolo quarto dove è più immediatamente comprensibile quali sono i doveri gli obblighi e qual è la via da intraprendere ma quando siamo fuori dal titolo quarto quando richiamiamo nelle esclusioni ci mancava ci manca tuttora ma abbiamo cercato di adattare di riempire di contenuti specifici l'articolo 26 e il documento che chiamiamo duvri di cui abbiamo cercato di elencare che voi sapete molto meglio di me che i contenuti minimi del PSC sotto il regime del titolo quarto sono indicati dalla norma ma non esiste un'indicazione specifica per quello che riguarda i contenuti del duvri abbiamo cercato di dare delle indicazioni ai nostri associati dicendo signori non è che se non ricadiamo del titolo quarto perché ricadiamo nelle esclusioni se facciamo il duvri possiamo fare finta di niente no fare un duvri è molto più complicato impegnativo difficile che fare un PSC perché dobbiamo essere noi che stabilire come farlo e quali sono gli elementi che garantiscono la sicurezza sul lavoro e poi come già ricordato dall'ingegnere poco fa la conoscenza approfondita dei luoghi di lavoro e anche la fondamentale importanza del parametro sicurezza già nella fase di progettazione un giorno mi piacerebbe metterci in uno stesso tavolo e parlare della definizione di progettista perché per noi il progettista non è quello non equivale al progettista nell'edilizia per noi i progettisti sono comunque dei creativi sono degli artisti e quelli che vengono definiti progettisti con una diciamo cultura dell'edilizia in realtà per noi sono i professionisti che fanno calcoli statici e basta non progettano ma non voglio aprire troppi vasi di Pandora se possiamo dire così se ho ancora un po' di tempo vorrei passare un attimo più nello specifico a vedere sulle esclusioni la parte delle esclusioni quindi dove noi abbiamo operato un chiarimento punto per punto alle quattro lettere che riguardano le esclusioni nel decreto palchi la lettera A è tutte le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee il nostro chiarimento è il seguente le esclusioni riguardano le fasi di spettacolo e le attività propedeutiche allo svolgimento del medesimo infatti generalmente il cantiere si chiude al termine del montaggio delle strutture e del loro equipaggiamento scenotecnico analogamente il cantiere si riapre al termine dello spettacolo con l'inizio delle attività di smontaggio abbiamo giusto per farvi vedere per chi non non l'ha avuto non l'ha ricevuto non lo conosce è scaricabile dal sito assumusica.org quindi è totalmente gratuito ovviamente abbiamo anche inserito qualche fotografia che per gli operatori del settore possono essere anche delle volte degli esempi banali ma dipende sempre a chi va in mano il documento quindi abbiamo pensato di fare una di realizzare un documento ben comprensibile a chiunque ovviamente prove e show sono in questo caso escluse dall'applicazione del titolo quarto e del decreto palchi smontaggio compresa produzione invece torniamo nel regime sono escluse le attività di montaggio smontaggio di pedane di altezza fino ai due metri rispetto a un piano stabile non connesse ad altre strutture o supportanti ad altre strutture qui già si poteva creare per noi qualche problemino di terminologia quantomeno il nostro chiarimento è stato il seguente con il termine pedale il decreto si riferisce qui al piano di calpestio del palcoscenico relativamente alle menzionate altre strutture supportate vista anche la circolare di chiarimento ministeriale si ritiene che possa essere senza dubbio compresa nelle esclusioni quanto segue un ring che poggia sul palco ovvero una struttura composta da americane su tralici verticali che viene assemblata sul piano del palco e su di esso poggia durante l'evento le altezze finali di queste strutture dovranno essere inferiori uguali a quelle previste nell'articolo 1,3 le tracce del decreto per il calcolo di tali altezze quale piano stabile di riferimento si dovrà comunque considerare il suolo e non il piano di calpestio del palco questo è la figurina che accompagna il testo appena letto e ne dà una spiegazione speriamo scevra da possibilità di interpretazioni sbiate per analogia al punto precedente le stesse considerazioni vagano nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento manuale tipo genie winch wind up o piantane che poggiano sul piano di calpestio del palco con altezza massima all'estradosso di 6 metri l'altezza massima di 6 metri sempre misurata da terra sia con appoggio degli stativi a terra che sopra al palco questo terzo esempio era quello diciamo più a rischio secondo me pedane volte a rialzare le strumentazioni o performe durante le esibizioni è vero che non bisogna che ci siano sul piano di calpestio del palco altre strutture ma se ci sono questo tipo di strutture per questo tipo di utilizzo che si evince anche dalla fotografia per noi ricadiamo sempre nel campo di esclusione quindi pedane volte a rialzare strumentazioni o performance durante le esibizioni si intende qui il montaggio e lo smontaggio di pedane di dimensioni ridotte che non espongono il lavoratore a rischio di caduta dall'alto ovvero da altezza maggiore di 2 metri perché tale valutazione risulta effettiva comunque le pedane in oggetto non devono troverci in prossimità delle parti perimetrali del palco perché allora l'altezza potrebbe superare 2 metri e allora il discorso dell'esclusione andrebbe a cadere montaggio smontaggio di travi sistemi di travi o grattici sospesi a stativi autori con sollevamento manuale o motorizzato il cui montaggio avviene al suolo sul piano del palco e la coltezza finale rispetto a un piano stabile misurata alle strade o sono su per i 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri questa esclusione questo è il nostro chiarimento si intende per il montaggio e lo smontaggio di opere poco complesse di facile realizzazione per le quali durante il loro allestimento e disallestimento il lavoratore non è esposto al rischio di caduta dall'alto se non per la sola attività di posizionamento e rimozione di sistemi di aggancio per dispositivi di sollevamento e cavi da cella e di sicurezza i miei amici e colleghi inglesi mi obbietterebbero che per loro è sempre si tratta sempre di un assessment del rischio di una valutazione io potrei cadere da 50 centimetri e rischiare di farmi molto male dipende sempre da cosa c'è per terra però diciamo che queste sono diciamo delle misure standard poi ci sono casi in cui anche un metro può essere assolutamente pericoloso e questa è una foto di riferimento questo per noi è uno dei punti fondamentali con la circolare numero 35 del 24-12-2014 il ministero del lavoro chiarisce che per analogia con le esclusioni precedenti si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi sistemi di travi o gratici che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti specificamente destinate come teatri palazzetti dello spazio eccetera ad ospitare gli spettacoli di qui sopra cioè se io ho una produzione che sale solamente con righi con i motori e non ha strutture di strutture portanti in questo caso e se io mi aggancio a dei punti già collaudati calcolati e verificati in modo permanente io sono escluso dal titolo quarto poi c'è il mio amico Enrico Massaro che mi dice sì ma se tu hai 300 motori e devi appenderli di qua e di là dimmi mo che non è una situazione pericolosa sbaglio no lo è infatti noi abbiamo insistito veramente tanto sulle parti escluse specificando che è vero che sono escluse dal titolo quarto ma non sono certamente escluse da essere assolutamente o analogamente o addirittura maggiormente pericolose di quelle che rientrano nel titolo quarto almeno ci abbiamo provato torniamo a parlare di righi ma adesso penso di essere in ritardo e vado avanti l'ultimo è quello praticamente dei kit di montaggio delle strutture prefabbricate e abbiamo fatto qualche piccolo esempio passiamo al comitente la definizione del comitente il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali di spesa per conto del quale vengono realizzate le attività di quell'articolo 1 coppa 2 dipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione ho messo dentro troppi chiarimenti rispetto a questa sicuramente non avrò il tempo per noi il comitente è per il quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporane questo passaggio tra il comitente come colui per il quale viene realizzata l'opera a colui per il quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio è per noi uno degli elementi più positivi in assoluto del decreto palchi soprattutto perché come me si occupa principalmente di produzioni straniere un tour degli U2 il mio amico maestro Danilo Giuffi ci insegna che viene progettato magari anche due anni prima tre anni prima che arrivi in Italia non sappiamo né dove né come e noi siamo i committenti come facciamo a esserlo se invece si tratta di progettare le attività di montaggio e smontaggio è l'attività che noi normalmente chiamiamo preproduzione che svolgiamo nei due tre l'un mese prima dell'arrivo di questo spettacolo in Italia quindi noi siamo in grado di gestire quella progettazione delle attività ma non quella dell'opera nel caso dei concerti grossi concerti di gruppi stranieri abbiamo fatto delle casistiche sono quattro casistiche che ci aiutano a determinare qual è il committente nel nostro sistema produttivo il caso del tour con produzione a seguito il committente per noi non sto a sintetizzo è sempre il produttore del tour perché per noi comunque l'opera non è quel concerto l'opera è tutto il tour insieme tutte le date che lo compongono dopo tanto lo so che ci dovremo parlare il tour con la mezza produzione qua dipende se io sono il promoter locale costruisco un teatro sicuramente quel cantiere io sono il committente ci sono all'interno di questa ci sono diverse casistiche sono in ritardo Lorenzo ok andiamo avanti il caso del singolo spettacolo la rassegna di spettacoli ecco solo sulla rassegna vorrei dire che se io da un parcheggio costruisco un teatro per concerti e questo teatro sta su due mesi io sono il committente dell'avenue del teatro ma chiun qualsiasi produzione viene a seconda che caschi sotto titolo quarto o no i committenti sono loro oppure i committenti sono sempre quelli della produzione in tour fine gli elementi diciamo che noi consigliamo debbano essere inseriti all'interno della redazione del Duvri penso che sia il caso di leggerli direttamente dal decreto dal nostro documento scaricandolo da internet però è uno degli elementi di cui noi siamo più contenti di avere insistito perché il nostro problema è quello di tutelare anche non solo i grandi eventi ma tutelare la sicurezza dei piccoli eventi che come numero sono Paolo tu sei statistico 10 a 1 50 a 1 52 non lo so ma sono tanti e lì si cela tanto pericolo forse più pericolo lì oggi che nei grandi eventi di massa o di grossa produzione volevo solo dire un accenno al mondo estero il mondo estero è un mondo di standard qualitativi internazionali ben identificati e riconosciuti un mondo di job description ben definite e dunque di figure lavorative e di mestieri riconosciuti un mondo di percorsi formativi relativi attestati ben delineati un mondo che tuttavia per alcune cose è indietro rispetto all'Italia io nelle dieci giorni scorsi ho partecipato al primo simposio dell'Event Safety Alliance che è un'associazione di sicurezza per la sicurezza negli eventi americana e che è nata e si è formata dopo l'incidente di Indianapolis in cui in questa sorta di sagra un palco è stato spacciato via è formata dopo l'incidente di Indianapolis in cui in questa sorta di sagra un palco è stato spacciato via per la prima volta sono approdati in Europa se è Istanbul è Europa non lo so e ci hanno portato il loro guida un librone grosso così di cui ho l'impegno di fare una traduzione in italiano speriamo e poi sono stato all'IPM all'LMC Production Meeting a Londra e ho scoperto che il 6 aprile in Inghilterra verrà per la prima volta pubblicato il nuovo CDM che è Construction Design Management delle strutture temporanee che è il nostro titolo quarto loro non l'hanno mai avuto prima e invece adesso c'è potete vedere l'intestazione Draft Guidance on the Construction Design and Management Regulation 2015 mi hanno passato la versione ancora non finale emendata ma uscirà il 6 aprile in Inghilterra sono 85 pagine è un bel tomo e sempre in Inghilterra giovedì scorso è stata presentata la redazione di questo buone prassi per il montaggio e la gestione delle grosse strutture a cui hanno aderito e hanno lavorato tutte le più grosse agenzie di palchi europee nessuna dall'Italia purtroppo però parliamo di State Coast tutte le altre ed è questo è un po' più sottile di 80 pagine sono una trentina di paginette ma veramente molto interessante ma credo che ne faremo anche di questa una traduzione e poi la metteremo a disposizione di tutti grazie grazie Alberto non ti ho fermato perché penso ti ringrazio perché penso che fosse importante per i tecnici presenti avere una qualche indicazione di tipo tecnico quindi è proprio la ragione per la quale si è lavorato cercare di fornire delle spiegazioni ben sapendo che e questo dico solo questo e poi lascio la parola al prossimo relatore non c'è basta il fraintendimento per cui se c'è il titolo primo non si fa la sicurezza se c'è il titolo quarto si fa la sicurezza la sicurezza si deve fare sempre titolo primo o titolo quarto è diversa la modalità di svolgimento dell'attività prevista dal legislatore ma si deve fare con quello stesso livello di inderogabilità perché se no poi ci pensa il giudice perché è la tutela quella che conta non è la normativa applicabile cioè paradossalmente mi fermo a dire questo i tecnici sono avvantaggiati nel titolo quarto perché hanno un allegato 15 che ci dice qual è il contenuto del PSC ma il duvri il titolo primo il fatto che non abbiano un allegato 15 come diceva un Rocco non significa che io non devo mettere tutti i rischi interferenziali non devo considerare la cooperazione e il coordinamento quindi dal punto di vista strettamente giuridico che è l'unica materia che io conosco forse è più insidioso andare in titolo primo che andare in titolo quarto perché almeno nel titolo quarto abbiamo un parametro di riferimento che è l'allegato quindicesimo mentre nel titolo primo devo comunque fare tutto quello che devo fare per tutelare i lavoratori perché altrimenti ne rispondo o come datore di lavoro committente o come impresa appaltatrice e basta non devo dire altro l'intervento che viene adesso l'intervento di Marco Morone del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Milano stressatissimo dell'ESPO e quindi essendo stressato all'ESPO infatti è cresciuta la barba prima non ce l'aveva c'è più tempo di tagliarla dici un po' come funziona come gestite lo stress dell'ESPO non parlando di stress ma di questioni tecniche grazie sì buongiorno a tutti cercherò di raccontarvi in 15 minuti 4-5 anni di lavoro intensissimo che stiamo facendo in vista del primo maggio sperando che il primo maggio si aprono i cancelli no devono aprire per forza noi come ASMILANO vediamo successivamente abbiamo attivato da tempo un progetto di vigilanza ma anche di studio approfondimento su quelle che sono manifestazioni temporanee e abbiamo iniziato ficcando il naso nei grandi eventi che succedevano a San Siro guardando le fasi di realizzazione e di smontaggio di questi cantieri temporanei perché cantieri i veri e propri sono ma non ci siamo fermati qua successivamente abbiamo iniziato anche a dare una controllata che stiamo ancora continuando un po' più nel dettaglio a cosa succede anche durante l'evento o magari cosa succede nelle altre aree che evento non sono zona backstage zona catering zone che comunque sono un satellite di quello che è lo spettacolo che viene realizzato oltre a questo noi in Milano viviamo quattro settimane all'anno di quelle che sono le settimane della moda dove in una settimana più o meno ci sono circa cento centocinquanta sfilate con tecnici che corrono da tutte le parti della città motori paranchi luci e tutto quello che potete immaginare che in una settimana nascono e muoiono nel giro di pochissimo tempo anche qui nelle fasi di montaggio fasi di smontaggio e anche da quest'anno nei backstage con i truccatori e altre figure professionali che sono mai state controllate in maniera così approfondita prima d'ora ma non solo non solo oltre a settimana della moda abbiamo il fuori salone abbiamo tantissime installazioni temporanee che riempiono Milano rendendola viva e attrattiva ma anche impegnativa per quello che riguarda l'organo di vigilanza ci siamo resi conto fin da subito che da soli non ci siamo mai riusciti non avevamo le forze per controllare tutte le attività ma anche questo comunque non sarebbe servito allora abbiamo iniziato già dal giugno del 2011 istituendo presso il servizio PSAL perciò centralizzando un team specifico per la vigilanza come detto prima iniziando a ficcare il naso in quelli che erano i cantieri temporanei per eventi per spettacoli definendo con un confronto attivo fra le parti le adeguate modalità dell'intervento e iniziando a richiedere 30 giorni prima una serie di documentazioni esempio mandavamo ai produttori mandami il PSC 30 giorni prima che tu fai il concerto all'inizio panico no? 30 giorni prima un PSC non ce l'ho col tempo adesso vi posso dire che sono i produttori che vengono da noi magari due mesi prima tre mesi prima e ci dicono devo fare questo pacco cosa dici va bene non va bene come possiamo fare nel 2012 abbiamo esteso questo gruppo di vigilanza con altre pubbliche amministrazioni noi DTL Polizia Locale e abbiamo istituito un gruppo di lavoro apposito con l'osservatorio che ne parlava stamattina Paolo Milano dove sediamo noi a Somusica al Comune una serie di soggetti che poi fra poco cercheremo di far gravitare attorno al centro della prevenzione che abbiamo attivato anche con l'aiuto di CIP per analizzare studiare proporre soluzioni a determinati problemi che possono sorgere che possono essere individuati col 2014 è stata decisa anche con la collaborazione effettiva con le altre amministrazioni di formare un gruppo di operatori ASL per la vigilanza specifica su Expo ma anche di scambiarci esperienze e informazioni con le ASL del resto dell'Italia abbiamo iniziato da quelle più vicine perciò l'ASL di Monza l'ASL di Pavia altre ASL del nostro circondario per formarci tutti e scambiarci informazioni esempio Monza hanno l'autodromo con gli eventi legati alla velocità cosa che noi non ne sappiamo nulla loro ci insegnano qualcosa questo va avanti andrà avanti anche nel futuro e è basato su un serrato confronto tecnico dove prima noi abbiamo voluto capire quello che succedeva perciò abbiamo ricostruito tutto il ciclo di lavoro alle fasi produttive abbiamo individuato non tutte ma quelle che siamo riusciti a individuare quelle che erano le criticità e insieme agli attori del settore cercato di studiare soluzioni più fattibili e concretamente applicabili abbiamo detto un'acquisizione permittiva di documentazioni un intervento delle organi di vigilanza anche nella fase di progettazione perciò se mi arriva un palco che è alto una pedana che è alto 2 metri 10 iniziamo a porci il problema che l'operatore quando ci sale deve proteggersi in qualche modo contro il rischio di tutto dall'alto e altre soluzioni di questo tipo come l'uso scorretto dei paranchi e quello che poi abbiamo individuato grazie a questo siamo riusciti a programmare l'attività di vigilanza nelle fasi più critiche diceva stamattina il dottor Marchiori che il piano regionale dell'implanazione edilizia prevede proprio l'intervento in queste fasi montaggio e smontaggio delle opere e sollevamento delle scenotecniche cosa che è stata suggerita DAS Milano nel seno del gruppo tecnico interregionale e naturalmente il tutto con un confronto attivo con le parti sociali e chiunque volesse venire nel nostro ufficio le porte diciamo sempre sono sempre aperte questo perché perché fra poco meno di un mese poco di più di un mese aprirà Expo 2015 Expo vede tutte e tre queste fasi Expo vede il cantiere edile tradizionale a febbraio 2014 questo era il cantiere edile a novembre 2014 questo era il cantiere edile perciò vedete i tempi stretti di realizzazione in Expo sono esasperati sono strettissimi i tempi proprio quasi quasi non ci sono e questo è il cantiere a gennaio 2015 in poco meno di un anno è quasi stato costruito un quartiere di 110.000 metri quadrati 80 padiglioni e tutto quello che ne c'è dentro in questo momento noi come ASO siamo attivi su tre fronti due fronti più operativi un fronte più programmatico per il futuro il primo fronte riguarda i controlli nei cantieri i controlli nei cantieri che a gennaio 2015 sono state fatte 4.500 ore di vigilanza nei cantiere Expo controllate 270 imprese 40% irregolari e 442 accessi ispettivi ma di pari passo a queste attività classiche di vigilanza si è affiancata ora ore di valutazione della documentazione e ore destinate a attività preventive 7.000 ore per attività preventive contro 4.000 ore per attività di vigilanza il futuro è la prevenzione non di certo la vigilanza vigilanza assistenza in funzione dei rischi reali il gruppo di lavoro che si occupa di Expo ci sono 12 operatori che sono dedicati giorni e notte a Expo più ulteriori tecnici che gravitano all'interno del servizio fanno un confronto costante con le committenze con Expo con gli altri soggetti incontri preliminari prima dell'avvio di ogni lavoro con ogni paese paese per la prima artese i problemi con le produzioni estere fate conto che qua tutti i paesi sono produzioni estere ma produzioni estere che possono essere l'Inghilterra ci va bene l'Oman il Nepal la Cina come far combaciare le loro normative con le nostre è davvero un lavoro molto molto particolare e con rischi nuovi nuovi rischi che in un cantiere classico vengono poco valutati come la viabilità la velocità dei mezzi all'interno del cantiere qua abbiamo un decumano che è una via quasi una via centrale di Expo dove in collaborazione con la polizia locale ad esempio noi facciamo i controlli col telelaser per il limite di velocità cosa che in altri cantieri mai si sarebbe pensata tutto questo fino ad oggi sembra dare alcuni risultati in quanto abbiamo avuto 84 infortuni superiore ai 3 giorni e di questi solo 8 superiore ai 30 giorni facendo tutti gli scongiuri del caso non abbiamo avuto ancora nessun infortunio mortale e puntiamo a non averne neanche uno è un grande risultato si fanno paragoni con altre grandi opere come possono essere la TAV o altre situazioni in Italia ecco gli indici infortunisti sono abbastanza più elevati dicevo la prima parte è la parte costruttiva del cantiere la seconda parte è la parte autorizzativa dei padiglioni tutti i padiglioni che prevedono all'interno aree di pubblico spettacolo con palchi strutture luci e chi più ne ha più ne metta devono essere autorizzati da una commissione di vigilanza commissione di vigilanza che è stata istituita con un decreto speciale del dottor Sala nella quale la ASLE parte attiva insieme ai vigili del fuoco e altri professionisti delle pubbliche amministrazioni ad oggi è una CV speciale una CV Expo si chiama ad oggi sono stati esaminati 66 progetti tutti i 66 progetti dei padiglioni con l'emissione di 350 pareri con prescrizioni e varianti la commissione avrà il compito poi di collaudare tutti i padiglioni e di verificare tutti gli eventi che verranno realizzati all'interno del sito espositivo di cosa stiamo parlando stiamo parlando di eventi nell'ordine di 2.500 eventi al giorno durante l'attività diurna eventi che vanno dalla semplice manifestazione parata a concerti ed esposizioni proprio complesse ma 1.000 eventi notturni un teatro due studi televisivi anfiteatri teatici dentro di tutto e sono tutte attività in essere per sei mesi ecco che questa attività di vigilanza che inizierà a primo di maggio perciò siamo proprio qua sta già essendo già in fase di programmazione noi stiamo già tenendo riunioni e contatti con tutte le direzioni di Expo per dare una mano e per iniziare a prevenire per evitare poi di avere problemi in fase di evento cosa si sta facendo si stanno predisponendo delle linee guida Expo sull'esempio di quelle che sono state fatte in Inghilterra durante le Olimpiadi dove verranno indicati a tutti i paesi espositori le regole generali da seguire per la realizzazione di attività lavorative l'idea è di applicare il tuo cuore il titolo quarto nel senso che prendiamo atto del decreto palchi però logisticamente sarebbe veramente complicato riuscire a gestire un palco fino a 7 metri uno fino a 2 uno fino a 1 ogni struttura che viene montata all'interno del cantiere Expo rimane sotto il controllo di un unico coordinatore per la sicurezza questo sulla scorta anche di quello che è stato fatto in inghilterra con le olimpiadi verranno fatti incontri preliminari con tutti i paesi le società e soggetti interessati per come è stato fatto nel cantiere informarli e metterli sulla buona strada per la fase di esecuzione e anche qui acquisiremo precocemente documentazione progettuale di e valuteremo le eventuali soluzioni proposte di pari passo con l'attività di assistenza vi sarà un'attività di vigilanza attività di vigilanza che verrà effettuata sulla programmazione degli eventi che sarà principalmente volta a verificare gli adempimenti in fase di progettazione perciò andando a intervenire quando ancora si può sulla modifica eventuale strutturale o organizzativa delle attività e poi naturalmente verificando durante le fasi di lavoro la normale applicazione della direttiva di riferimento non finisce qui perché tutta Milano sarà un grandissimo expo noi ci aspettiamo da giù da maggio 2015 fino a ottobre almeno 6.000 7.000 eventi per la città 6.000 7.000 eventi che vanno anche qui dal concerto alla mostra alla sagra a qualsiasi cosa eventi che noi come ASL in collaborazione con il comune e gli articoli istituzionali andremo a autorizzare nel seno della commissione di vigilanza comunale o provinciale anche qui ci stiamo muovendo per tempo ci siamo già mosse a dire il vero con il comune di Milano è stato attivato il progetto expo in città che sul sito www.expoincittà ognuno di voi può andare a vedere che è praticamente il palinsesto degli eventi che avranno luogo in città durante expo cosa è stato fatto con expo in città è stato fatto innanzitutto è stato unificato il modello di richiesta di licenza da parte dell'utente perciò non c'è più bisogno di fare 45 richieste tra occupazione pubblico ccv e tutto quanto ma c'è un unico modello che deve essere presentato al comune e questo modello è stato elaborato con la nostra consulenza di as milano e anche le parti sociali sindacati cgl cislevino hanno partecipato a questa elaborazione ed è accompagnato da una un quadernetto alcune pagine di informazione dove si parla anche degli obblighi previsti in tema di salute e sicurezza sul lavoro ma la cosa importante è in questo modello integrato che prevede una serie di punti al punto 19 sono stati è stato chiesto di dichiarare proprio al richiedente in fase di richiesta della domanda l'assolvimento comunque come si colloca quell'attività con riguardo al decreto palchi o al titolo quarto perciò in caso in cui un'opera rientri nel campo di applicazione del titolo quarto noi come as abbiamo una preventiva comunicazione da parte dell'ufficio comunale e è necessario presentare la copia della nomina del fronte spizio di PSC per autorizzare per avere l'autorizzazione al pubblico spettacolo andando avanti un altro grandissimo lavoro è stato fatto sulle location perciò tutte le location tutte quelle che si sta cercando di fare si sta cercando di fare tutte sono state censite nel comune di Milano questo è una scheda esempio dello stadio di San Siro e il comune con l'ausilio dei suoi tecnici specializzati ha passato ai raggi X queste location che chiedono di essere inserite nell'elenco dei siti per expo in città che devono dichiarare devono presentare documentazione esempio per gli impianti elettrici per la stabilità degli edifici la portanza dei terreni uscite di emergenza piani di emergenza tutto quello che è richiesto per la normativa in tema di sicurezza perciò era un lavoro che fino a qualche anno fa non esisteva veniva fatto step by step ma grazie ad Expo si è riusciti si riuscirà ad avere un censimento e una messa norma di tutte le strutture ufficialmente autorizzate a svolgere eventi con già una destinazione d'uso io so già che se voglio fare un concerto ho quelle strutture a disposizione e non altre tutte queste informazioni e molte altre sono reperibili sul nostro sito internet asmilano.it dove noi pubblichiamo costantemente gli aggiornamenti sui nostri dati sulle nostre attività di vigilanza e naturalmente per ogni informazione questi sono i nostri riferimenti le nostre porte come detto prima sono sempre aperte vi ringrazio grazie Marco anche per l'impegno che ci stanno mettendo mi ha colpito il dato delle 7.000 ore di attività non ispettiva ma diciamo quella che potremmo definire esplicativa ricordo molto velocemente che un risultato molto positivo fu anche un'azione del genere di sinergia tra le ASL gli organismi paritetici quelli veri però ovviamente e le parti sociali nonché le imprese impegnate le Olimpiadi di Torino che ha avuto un ottimo effetto quindi a conferma del fatto che se si riesce a lavorare insieme in una maniera non punitiva ma propositiva non si può che andare avanti con il dato più importante che è quello relativo sicuramente alla presenza di infortuni ma molti meno rispetto alla media di cantieri di quella complessità il risultato è tangibile riguardo alle persone allora io adesso passo la parola all'intervento tecnico dell'ingegnere Rocco Sassone che è componente non solo un semplice componente direi insomma però oggi lo qualifico come tale come componente del gruppo di lavoro sicurezza del Consiglio nazionale degli ingegneri con una relazione sui requisiti di sicurezza delle strutture costituenti le opere temporanee del decreto palchi e fiere grazie Rocco permettimi di complimentarmi molto spento sì chiedo scusa permettimi di complimentarmi ancora prima di iniziare con l'uditorio devo dire che dalla mia particolare visuale prospettica uditorio disciplinato attento dallo studio della semiotica degli sguardi mi sembra addirittura interessatissimo e questo dà merito senz'altro anche agli organizzatori di questo convegno che hanno saputo evidentemente interpretare i bisogni di formazione e di informazione su questa tematica particolarmente complessa moderna e anche aggiungerei trasversale vi porto i saluti del Consiglio nazionale degli ingegneri del suo presidente e quindi di tutta la categoria siamo 240.000 in Italia vocati alla gestione degli adempimenti di sicurezza a creare i presupposti affinché questo accada sempre meglio e più spesso ed è proprio in quest'ottica che si proverò a dare qualche indicazione seppur ligio alle indicazioni del nostro coordinatore del tavolo il quale evidentemente oltre che alle sanzioni di tipo temporale a cui spero diciamo che proverò a dare qualche indicazione allora inizierei con la tematica dei requisiti di sicurezza delle strutture costituenti le opere temporanee del decreto palchi e inizierei da questa considerazione le strutture costituenti le opere temporanee sono quelle che vedete all'interno di questa slide le foto sono esaustive sono praticamente limitate il motivo è semplice sono strutture composte da elementi modulari che devono ovviamente chi mi ha preceduto l'ha fatto molto bene devono essere utilizzate montate smontate movimentate in maniera tale da garantire per l'appunto l'obiettivo finale quello di effettuare degli spettacoli delle manifestazioni in linea con le previsioni progettuali e esecutive in quest'ottica mi piace evidenziare non soltanto quindi le strutture è stato si è parlato di progettazione si è parlato anche di coordinamento della sicurezza ma non bisogna associare soltanto a queste tematiche e a queste figure le attività da svolgere ma ce ne sono anche delle altre pensiamo alla direzione lavori pensiamo anche alle modalità con cui nelle organizzazioni delle imprese esecutrici si attestano ad esempio i regolari montaggi delle strutture stesse quindi non possiamo rubricare un'attività così ampia e complessa con delle mere figure che a titolo esemplificativo possono sì concorrere con gli obiettivi finali che sono quelli di garantire i sufficienti livelli di sicurezza ma non devono ingessare il processo secondo noi bisogna essere capaci di capire quello che è necessario attuare e dare le corrette giuste informazioni concretamente attuabili affinché poi chi è demandato a definire le modalità con cui raggiungere quegli obiettivi possa in concreto definire il da farsi in quest'ottica l'obiettivo dell'intervento non potrà che essere quello e i tempi ahimè sono incombenti non potrà essere che quello di definire e presentare in termini non di sostanza ma di contenuti di indirizzo quelle che possono essere le modalità con cui si possono raggiungere quegli obiettivi cioè quelli di verificare i requisiti di sicurezza di strutture temporanee che evidentemente poi costituiscono nella loro complessità le opere che concorrono a poter garantire l'effettuazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo in quest'ottica nella slide presento anche ma l'hanno fatto gli esimili datori che mi hanno preceduto presento le problematiche che poi possono addivenire nel momento in cui queste considerazioni non vengono puntualmente colte sono quelle che evidentemente sono state rappresentate dalle fotografie ancora più interessanti di chi mi ha preceduto ma ancora di più vorrei porre l'attenzione soprattutto sul concetto di adeguatezza della struttura perché non ci interessa ragionare su quello che è accaduto ci interessa ragionare su quelli che sono gli obiettivi requisiti le modalità con cui verificare che quelle strutture che poi si assemblano che poi si smontano che poi si montano e sono soggetti a dei cicli di lavoro di fatica particolarmente impegnativi possano poi raggiungere gli obiettivi sperati dobbiamo metterci d'accordo su cosa significa però verifica di sicurezza e la verifica di sicurezza non può che essere una valutazione tecnica del manufatto che costituisce poi le opere e abbiamo raccontato in prima battuta le caratteristiche di questo manufatto che non possono che essere associate ad una regolamentazione tecnica come quella che vedete nella slide e quindi l'allegato 4 il testo unico le normative tecniche sulle costruzioni e fin anche la legge 1086 che per i colleghi che si occupano di queste problematiche rappresenta una prima normativa ancora in essere molto romantica devo dire ma attuabilissima riguarda il collaudo e talune altre importanti attività su cui evidentemente vado avanti per motivi temporali come si conducono le verifiche abbiamo capito cosa sono ora definiamo come si conducono le verifiche le verifiche di sicurezza non possono che essere condotte mediante delle calcolazioni delle analisi quindi bisogna acquisire dei documenti bisogna definire sulla scorta delle resistenze dei materiali una serie di obiettivi da raggiungere che non possono che essere congrui compatibili commisurati alla destinazione d'uso di queste strutture in fase di esercizio un palco all'interno del quale o sopra il quale è necessario creare i presupposti affinché ci sia garantita la calpestabilità a 1000 kg a 500 kg a 200 kg è diverso da un palco invece a cui non è assolutamente richiesta questo gravame quindi alla fine le verifiche vanno nella direzione di stabilire la capacità portante la solidità e stabilità al suolo della struttura e quindi la sicurezza globale dell'opera il fine di questo processo quello cioè che permette di attestare di certificare le strutture o le opere costituenti le strutture delle manifestazioni connesse al pubblico spettacolo possono essere racchiuse in una serie di certificazioni anche in questo caso semplifichiamo evidentemente parliamo di certificazione di idoneità statica delle strutture portanti e qui mi riferisco ad ogni struttura permanente o temporanea dove è previsto lo stazionamento di pubblico ancora alla certificazione dell'idoneità di installazione e degli elementi appesi e anche se non portanti e quindi questo vale invece per ogni categoria o tipologia di carico appeso sia statico che dinamico qui faremo qualche considerazione perché è evidente volevamo essere operati per ogni categoria o tipologia di carico appeso sia statico che dinamico qui faremo qualche considerazione perché è evidente volevamo essere operativi utili nell'incontro di oggi volevamo dare dei rudimenti che evidentemente fuori dalle calcolazioni e dalla noia della presentazione di questi elaborati potessero già mettervi in condizione di stabilire in termini sintetici talune valutazioni lo vedremo alla fine certificato di doni a conservazione dell'opera anche questo è un certificato di cui non si parla mai ma è un documento fondamentale soprattutto per quelle strutture per quelle opere e durante le manifestazioni del pubblico spettacolo ve ne sono veramente tante che ad esempio hanno dei collaudi particolarmente antichi direi perché oltre dieci anni è senz'altro un'etichetta giusta da associare ma andiamo veloci quali sono le tipologie di opere da realizzare o che si possono realizzare è evidente che bisogna fare una semplificazione anche in questo caso lo facciamo volentieri perché a ragion veduta l'obiettivo è quello di metterci in condizione mettervi in condizione di acquisire dei rudimenti utili a poter fare delle valutazioni alla fine della presentazione abbiamo delle opere permanenti e delle opere temporanee evidentemente ci disinteressiamo subito delle opere permanenti che sono delle opere che in quanto tale necessitano di collaudi al contrario invece di quelle temporanee che non necessitano di collaudi e che vanno distinte in opere temporanee o strutture temporanee che possono essere isolate oppure attigue ad opere permanenti e questo cambia sposta e teoricamente integra una serie di condizioni di cui bisogna tener conto ho provato anche a definirvele queste condizioni la struttura temporanea isolata è un palco scusate è un palco a cui evidentemente devono soggiacere tutte quelle normative di cui si è già parlato e su cui evidentemente non mi dilungo finalizzate ad attestare l'adeguatezza di questo palco in relazione ai carichi di progetto e quindi ai collaudi finale che poi permettono l'agibilità del palco stesso quello su cui vorrei soffermarmi un po' di più invece sono le strutture temporanee in collegamento con le strutture preesistenti sono delle strutture quindi che creano presupposti di una interazione e rispetto a queste bisogna fare delle verifiche evidentemente rispetto a cui la struttura preesistente quindi la struttura fissa deve essere capace deve garantire che la trasmissione delle sollecitazioni probabilmente create dalla struttura temporanea pensiamo al vento pensiamo ne parleremo tra un attimo pensiamo anche a problematiche connesse alla gestione durante una emergenza di quella struttura che ad esempio non è più sicura e a fianco a un'opera una presistenza fissa che invece a cui invece è richiesto un livello di sicurezza maggiore cosa può provocare sono tematiche di cui dobbiamo occuparci e a cui dobbiamo dare delle risposte non ora ovviamente ma dobbiamo fare come dicevo degli esempi degli esempi concreti dobbiamo essere capaci di far percepire la tematica della sicurezza a tematica dell'operatività l'operatività ho sentito i redattori che mi hanno anticipato bene non è soltanto quella di fare dei metri cubi di carta o tanti tavoli tecnici o altro genere di situazioni ad essere correlate l'operatività è offrire delle soluzioni e come sappiamo scegliere tra tutte le opzioni recite possibili la soluzione che più si adatta rispetto a quelle che sono le condizioni con cui quella struttura dovrà essere fruita questo evidentemente garantendo sempre i sufficienti livelli di sicurezza l'opzione legittima significa questo se no è un'opzione illegittima per fare questo ma a titolo esaustivo dobbiamo risentirci in un altro momento possiamo capire come si effettua una valutazione di sicurezza o se preferite di idoneità dei carichi sospesi non ci inventiamo nulla fa parte sempre di quel metro cubo di carta a cui facevo riferimento prima la circolare ve l'ho messa sotto andatela pure a controllare del ministero degli interni del 26 aprile 2011 è una circolare particolarmente esaustiva però devo dire che per la mia esperienza non trovo spesso tra gli elaborati che mi compaiono davanti anche a valle di situazioni gravose connesse ad infortuni accadimenti e cose del genere insomma nessuno si pone il problema di utilizzare quello che già c'è cioè la copiosa materia normativa su cui qualcuno in questo caso molto bene i vigili del fuoco hanno dato delle indicazioni come si fa? innanzitutto anche in questo caso quando si parla di attività operative bisogna mettersi d'accordo su due o tre cose importanti imprescindibili cosa sono i carichi sospesi? i carichi sospesi sono quelli che vedete proiettati chi mi ha preceduto l'ha fatto e l'ha raccontato molto bene ma è evidente sono dei pesi che sono ancorati a delle strutture possono essere fisse o mobili e poi è evidente che queste strutture o questi carichi stessi rappresentano per loro stessa vocazione una materia che può essere rubricata come arredo o come attività portante ma lo diciamo meglio il carico sospeso può essere fisso può essere sospeso ad un organo di sollevamento oppure può essere dinamico fisso è evidente non c'è bisogno di spiegare carico sospeso ad un organo di sollevamento e un carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile ad una fune ad una catena ad una cinghia quanti ce ne sono all'interno delle manifestazioni di pubblico spettacolo oppure un carico sospeso dinamico è un carico che evidentemente è movimentato da una macchina oppure è esso stesso inserito su una macchina in movimento è un sistema complesso più complesso ma la normativa di riferimento l'abbiamo raccontato prima è quella che vedete alle mie spalle e il dpcm anzi scusate il decreto le norme per l'NTC 2008 praticamente le norme tecniche sulle costruzioni e di fatto le norme tecniche sulle costruzioni definiscono in maniera chiara inequivocabile le modalità con cui una struttura deve essere calcolata dimensionata valutata e anche resa manutenibile nel tempo il concetto di durabilità anche per le opere temporanee perché sono stressate dai cicli di fatica prima evocavo un'altra norma vado avanti non possiamo che non citare però il testo unico in materia di sicurezza il decreto 81 che all'allegato 4 parla di stabilità e solidità delle strutture anche in questo caso devo dire polemicamente non trovo spesso nell'ambito delle valutazioni del rischio il capitolo afferente all'allegato 4 solidità e stabilità delle strutture per dirla in maniera particolarmente sintetica basterebbe una corretta applicazione della previsione connessa a questo aspetto a questo particolare aspetto cioè la valutazione della stabilità e della solidità delle strutture per poter rubricare questo argomento come un argomento effettuato in maniera effettuato e affrontato in maniera adeguata evidentemente questo non accade perché l'allegato 4 per la previsione della stabilità e solidità delle strutture degli elementi strutturali importanti e separati dei luoghi di lavoro non viene molto spesso attuato parlavo di condizioni con cui si possono verificare i carichi appesi o sospesi per fare questo bisogna mettersi d'accordo su quelle che sono gli schemi sulle modalità con cui questi carichi possono essere utilizzati nella slide vedete una serie di condizioni condizioni di carico vi pregherei di porre l'attenzione soprattutto sulla leggenda la leggenda con i numeri con le lettere prevede battezza per ognuno di quei sistemi di sollevamento connessi a quegli schemi una tipologia ben precisa di struttura a cui il tecnico deve porre rispetto a cui il tecnico deve attuare una valutazione di sicurezza ad esempio la A vale per tutti è una struttura di sostegno e potrebbe essere un torre luce una struttura fissa un'americana eccetera la B è un vincolo di collegamento tra struttura e collegamento principale non mi dilungo anche in questo caso perché lo schema serve a questo ad essere veloci ad essere chiari e soprattutto ad introdurre in maniera inequivocabile quello che è il modello su cui bisogna esprimere un parere se quello è lo schema dobbiamo vi sollevo da quelli che sono i documenti che servono ad arrivare alla valutazione di sicurezza arriviamo a definire qual è l'output documentale del tecnico abilitato il tecnico abilitato è colui che all'interno della normativa sul pubblico spettacolo senza evocare quella dei palchi sarebbe troppo comodo oggi ma in tutta la normativa del pubblico spettacolo il tecnico abilitato è colui che deve certificare deve attestare deve verificare deve garantire e come fa? Allora l'output documentale è quello che ho provato sinteticamente a elencare lo leggo perché questa slide penso che sia utile la documentazione tecnica illustrativa indicante la presenza la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi e non può che essere così l'abbiamo visto poco fa lo schema il modello di calcolo deve univocamente identificare la problematica rispetto al quale mi viene chiesto di esprimere un parere di sicurezza e se no rispetto a cosa lo esprimo il parere ancora gli schemi dei sistemi di sospensione che evidenziano dove presenti i sistemi complessi ne abbiamo parlato prima c'è la possibilità molto spesso di trovarci avanti dei carichi appesi addirittura ad altri carichi appesi perché ci sono dei motori o dei manovellismi che sono necessari a garantire la fruizione dello spettacolo pensate ai teatri o ad altre cose del genere arriviamo alla certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo non possiamo trascurare il concetto che l'opera potrebbe essere composta di tante sottofasi sotto categorie che vanno certificate e qualcuno deve prendersi la briga di definire in maniera chiara e inequivocabile la modalità con cui tutta l'opera non una parte sia tale da garantire quei richiesti sufficienti livelli di sicurezza sia per i lavoratori che per i futuri fruitori di quella struttura in ultimo abbiamo una certificazione che evidentemente deve essere associata prima abbiamo parlato di globalità ora parliamo di specificità deve essere associata ad ognuno di quei componenti nella leggenda nella slide precedente quella che abbiamo cominciato a leggere con la lettera A B eccetera ognuno di quegli elementi sono parti di un sistema più complesso bene come facciamo a definire queste attività la valutazione di sicurezza la facciamo leggendo questa tabella fa parte di quella circolare quindi nessuno ha inventato nulla rispetto al quale per la struttura di sostegno la A vado un attimo indietro a beneficio della memoria la A è praticamente questo tratto struttura di sostegno cosa bisogna fare dice la norma circolare del ministero dell'interno certificazione di donità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio a firma di tecnico abilitato B vincolo di collegamento anche in questo caso a beneficio di tutti vado un attimo indietro B siamo in questo punto nel punto rosso parliamo di un sistema di ancoraggio può essere un golfare può essere un punto di ancoraggio certificato può essere qualsiasi cosa può essere anche un gancio di un autogru che teoricamente è stata verificata o ritenuta tale per effettuare un'attività bene cosa si fa in quel caso certificato del sistema di aggancio del produttore o del tecnico abilitato io vorrei andare avanti ma è banale dal C al G abbiamo una serie di indicazioni chiare rispetto a come in concreto e questo vorrei che passasse per amici soprattutto che si occupano di queste tematiche in concreto di come si effettuano e si possono garantire le valutazioni di sicurezza delle strutture che compongono le opere delle manifestazioni di pubblico spettacolo grazie grazie a te Rocco ringrazio mi limito non avendo capito nulla delle questioni tecniche ovviamente mi limito all'unica cosa che mi è venuta in mente mentre tu parlavi naturalmente sarà tutto sicuramente perfetto le certificazioni e le dichiarazioni dei tecnici immagino che tu sarai d'accordo con quello che sto per dire sono una grande opportunità per i tecnici non solo gli ingegneri ma tutti coloro che hanno una competenza tecnica ma ricordiamoci che giuridicamente è un'assunzione di responsabilità notevole quindi lo so che voi come consiglio azionale degli ingegneri lo dite ai vostri però ricordiamo che tutti quelli che sono professionisti compresi gli avvocati quando fanno i pareri vale lo stesso anche per me hanno una buona opportunità commerciale secondo me anche col Jobs Act ci sarà un ampliamento voglio sbilanciare sulle possibilità di autodichiarazione o di certificazione da parte di soggetti terzi mi aspetto che si vada in questa direzione ma se fosse così il tecnico che rende la sua chiamiamola asseverazione si assume la relativa responsabilità quindi è una questione su cui dobbiamo agire con la massima professionalità e non lo uso a caso il termine professionalità noi tecnici ci siamo abituati noi siamo abituati più che d'accordo non ne vorrei fare una questione campaneristica noi siamo abituati ad assumerci delle responsabilità e l'obiettivo è quello però di assumerci delle responsabilità garantendo il cittadino e quindi la collettività da quelle che sono le previsioni rispetto al quale ci chiede di assumerci la responsabilità la tematica rispetto al quale abbiamo fatto delle considerazioni nella relazione Pocanzi è oggettiva in quanto riprende delle indicazioni della circolare del ministero dell'interno che evidentemente non può che essere recepibile recepita grazie allora ultimo intervento ma no diciamo ultimo nel senso solo cronologico è dell'ingegner Marco Lucchesi che è coordinatore della consulenza tecnica per l'edilizia INAIL della direzione regionale toscana con un intervento relativo a uno dei punti essenziali per la prevenzione degli infortuni vale a dire la formazione lui ci parlerà della formazione nell'attività di montaggio e smontaggio delle strutture per eventi e manifestazioni grazie grazie a tutti voi per l'attenzione grazie a chi ha voluto anche la mia presenza qua in questo incontro in direzione regionale per la toscana è stato ideato pensato un corso di formazione teorico pratico per il montaggio dei strutture e smontaggio durante gli eventi questo è avvenuto nell'anno 2012 fra gennaio e maggio del 2012 quindi in un momento che si poteva essere sull'onda emotiva di quello che era successo a Trieste ma che era un'attenzione che la direzione regionale dava per questo tipo di attività perché questo perché il problema è che se non fossero accaduti certi incidenti probabilmente non avevamo fatto niente in questa direzione anche perché tutta la normativa che noi abbiamo questo settore non l'aveva proprio minimamente toccato e quindi come tale trovavamo un vuoto queste sono quelle cose che abbiamo già visto e che ci hanno fatto riflettere su degli accadimenti in questo settore non si è segnalato non si è mai rilevata una particolare pericolosità infatti statisticamente gli incidenti che capitano in questo settore e soprattutto i mancati incidenti sono ben inferiori rispetto a quella che è la tipologia degli incidenti che si verificano le costruzioni per cui diciamo questa è stata un po' una scoperta e quindi in termini qualitativi tutti i settori industriali generano più incidenti che non i parchi e allora però cosa è venuto fuori è venuto fuori che cosa vuol dire questo i pochi infortuni rispetto a altri settori significa che si tratta di un lavoro facile e sicuro oppure che la specificità e la professionalità richiesta per eseguirlo in quanto lavoro di per sé rischioso è la soglia che innalza il livello di protezione del rischio cioè che lo fa solo chi lo sa fare oppure si tratta di un lavoro che possono fare tutti come si apprende questo mestiere chi lo insegna come si impara perché questo perché io ho fatto molti di quelle regolari esecuzioni con l'audi che mi sono interessato di questi palchi in anni precedenti all'evento e queste domande facevano scattare subito due ipotesi nonostante pochi incidenti è comunque un settore meritevole di attenzione e quindi migliorabile per essere analizzato e migliorato il modello di analisi e valutazione deve essere implementato di specificità nel settore per la presenza contemporanea di molteplici fattori tecnici e operativi perché? perché questo tipo di e questo settore richiedono un approccio diverso da quello che è il cantiere edilizio in senso classico è un'opera sicuramente di ingegneria quindi io sono molto contento di questo incontro perché essendo un'opera di ingegneria quello che abbiamo ascoltato cioè che riguarda la progettazione è fondamentale il progettista diventa un elemento fondamentale per questo tipo di strutture tutto quello che abbiamo detto dei carichi sia statici sia in movimento sia dinamici sono tutte cose che il professionista che dà un progetto ha calcolato e poi cosa c'è che è un allevato componente organizzativo e logistica il cantiere diciamo ha diverse componenti e cambia continuamente richiede un impegno tecnologico impiantistico è realizzato però su deboli dati di progetto mentre una struttura progettata per durare nel tempo ha tutta una serie di diciamo accorgimenti e di progettazione ad hoc questa nasce more si è detto quindi ha deboli dati anche se noi abbiamo introdotto nel decreto il discorso del sito della conoscenza di tutto quindi va in quella direzione è soggetta a indeterminazione quando noi abbiamo una situazione che va oltre certi limiti noi abbiamo un anemometro che ci dice che sotto quella certa portata di vento dobbiamo abbassare un palco la struttura di supporto di gran supporto della copertura perché perché questo tipo di strutture non sono né semplici né complicate ma vanno studiate e quindi il progettista è fondamentale sia anche per quello che diceva Artese per quanto riguarda la progettazione di tipo anche diciamo così spettacolare questo va calcolato prima queste sono le strutture signori queste hanno veramente delle difficoltà nell'attuazione e nella progettazione cosa è successo che la scelta qual era la scelta che noi avevamo e abbiamo fatto in direzione regionale prima di tutto la Toscana è una regione che ha tante manifestazioni e gli eventi non sono solo eventi di tipo musicale ma abbiamo moltissimi eventi di tipo storico basti pensare agli eventi della giota del Saracino Arezzo al Calcio in Costume a Firenze al Palio di Siena sono tutte organizzazioni eventi che non sono scindibili rispetto all'evento musicale l'evento musicale ha una certa particolarità ma ci sono altri eventi che sono anche di carattere storico quindi cosa ci interessava a noi e quello che era stata la mia esperienza era intercettare a rendere più sicure le maestranze impegnate quando io ho visto come si realizzavano il mio primo pensiero non c'era nessun discorso dell'81 di altre cose era quello di come montavano questi ragazzi perché poi qui si sta parlando di una platea che è molto giovane di questi montatori chi ha la mia età non va a montare e quindi questo aspetto di complesso ci ha fatto scattare un meccanismo che era quello di vedere come si poteva creare un percorso formativo come con le leggi che avevamo con quello che c'era e cosa c'era la conferenza ministero stato regioni quella che ci diceva di come si faceva un corretto montaggio dei ponteggi allora però i ponteggi che sono a presidio e all'organizzazione di un'opera fissa sono ben divertiti da questi chi monta i ponteggi per le opere edili non ha questa conoscenza perché questa è un'altra cosa anche se parte dagli stessi presupposti quindi cosa abbiamo detto il gruppo di lavoro è stato composto da un esperto degli ordini architetti di Firenze da un professore universitario da due guide alpine con esperienza anche nei lavori edili e siamo partiti dal Pala Livorno grazie al dottor Adinolfi che in quel momento era il direttore regionale a Firenze con il professor Vincenzo Legnante della facoltà di architettura con l'architetto Panebianco che è anche qui in platea e poi cosa abbiamo detto guardiamo come si può organizzare questo tipo di formazione abbiamo detto ci vuole la parte legislativa che è propedeutica per tutti e l'abbiamo diciamo così espota alle maestranze che venivano naturalmente l'INAI ha pagato tutto questo la spesa era tutta soltanto a carico dell'istituto abbiamo quindi parlato di quelle che sono le responsabilità nel momento del montaggio dei preposti dei lavoratori abbiamo parlato dell'81 del 2008 abbiamo parlato di coordinamento la percezione del rischio le buone tecniche buone prassi la scelta dei dpi chiaramente sono pillole perché non è possibile in quattro ore esaurire completamente questo argomento ma dal niente che c'era siamo riusciti a fare diciamo emergere e innalzare il livello questa è la nostra presunzione perché qui non c'è un vincitore uno sconfitto siamo tutti vincitori se alziamo il livello quindi anche parlare di quelle che possono essere anche le violazioni sui cantieri quello che è l'interferenza quello che è la movimentazione dei carichi abbiamo trovato ragazzi che non sapevano niente di come si tiravano sui carichi e di come si potevano diciamo così espostare abbiamo parlato di quello che sono i documenti della sicurezza dal DVR al Dubri al PSC non come progettisti ma come persone che sanno leggerlo e che quando si parla sappiano di che cosa si parla effettivamente quindi abbiamo fatto vedere cosa sono i piani di montaggio abbiamo parlato delle cadute dall'alto l'emergenza e il soccorso con recupero abbiamo fatto anche decenni di statica perché un'americana tanta gente mi dice io prendo un'americana e poi carico l'americana porta 3.000 kg 2.000 kg ma come li porta cioè li porta perché te li metti come ti capita ci sono delle strutture che avete visto precedentemente che sono date dal costruttore con una analisi dei carichi e devi mettere quei carichi dove devono stare non che io carico illimitatamente come mi pare quindi abbiamo dato di questi sceni di statica come abbiamo fatto dei sceni su rischio elettrico chiaramente pensate che in otto ore questo come è possibile anche perché poi stressavamo anche questi ragazzi che venivano e abbiamo fatto una verifica intermedia qui abbiamo proprio il caso del Mandela Forum che è la seconda edizione il Palalivorno la prima la seconda abbiamo fatto il Mandela Forum qui in platea c'è anche chi ha seguito questo corso e sono contento che ci sia e di cosa abbiamo parlato abbiamo parlato di quello che non deve accadere cioè a noi ci interessava questo ci interessava fare in modo che il ragazzo il giovane tornasse a casa non ci interessa chi ha vinto chi ha perso nella seconda parte invece abbiamo fatto un modulo che è strettamente di tre giornate solo operativo solo di addestramento a noi ci interessava fare questo addestrare le persone ci interessa fargli vedere come si monta è tutto quello che si monta dal palco alle tribune a tutto quello che occorre fare in questi eventi quindi sia le strutture multidirezionali sia gli appendimenti sia l'uso anche di quelli che sono di più e te li indossi mi devi far vedere com'è la tua capacità anche di usarli gli strumenti per la pianificazione e la gestione della sicurezza poi la normativa anche di quelle che possono essere le interferenze fra i lavoratori il secondo giorno abbiamo montato le torri multidirezionali le strutture per parcosciani che graticcio torri abbiamo fatto un lavoro diciamo enorme dal punto di vista che non le avevamo queste strutture ce le facciamo prestare perché l'istituto le ha dovute anche noleggiare quindi capite la difficoltà e io spero che poi vada a regime in qualche modo da qualche parte ma che vada a regime perché chiaramente non è possibile spendere per questo tipo di attività ma occorre che ci sia la disponibilità avere strutture laiere strutture multidirezionali e poi abbiamo fatto anche il discorso di quello che è l'interferenza su quelle che possano essere le tribune ci sono delle tribune in certe circostanze vedi Firenze e Piazza Santa Croce ma anche Massa Marittima Massa Marittima per chi non lo conosce c'è una stagione concertistica di lirica che va dal giugno fino a agosto settembre e sono strutture veramente molto alte e impegnative poi abbiamo fatto il discorso pratico questo è il discorso pratico e concludo con questi esempi qui abbiamo la guida alpina che spiegava come come si monta con il disegno alla mano cioè la lettura del disegno questi sono i vari ragazzi che questa è l'edizione di Grosseto e questo è come noi abbiamo studiato il montaggio qui sempre quella fase abbiamo montato anche le torri abbiamo montato oltre che le torri abbiamo fatto anche un'altra cosa che è il recupero ci interessava il recupero far capire non brevettare non siamo capaci di brevettare ma abbiamo fatto capire come si fa il recupero quindi la guida alpina ci ha aiutato a capire poi chi vorrà lo esploderà chi ha bisogno di fare un percorso ulteriore noi abbiamo acceso quello che è l'interesse qui vedete proprio la fase di recupero effettiva qui come viene imbracato e come viene salvata la persona qui sono altre fasi di montaggio di cose banali questo è semplicemente un palcoscenico qui siamo al pallalivorno sempre in queste strutture qui siamo invece a massa marittima e qui abbiamo montato delle strutture queste che sono ben più alte e quindi cosa occorre fare occorre che ora questo percorso sia integrato con l'entrata in vigore del decreto interministeriale ma quello che mi preme sottolineare come chiusura si ritiene comunque che la formazione per gli operatori del settore comprende in modo specifico le corrette modalità di sicurezza di montaggio e smontaggio ci interessa la parte teorica ci interessa molto la parte pratica perché se non c'è la parte pratica quando andiamo a costruire a mettere sull'oggetto non riusciamo a capire grazie 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 ingegnere dunque io passerei a questo punto alla diciamo al tavolo breve discussione con i rappresentanti delle parti sociali quindi chiederei all'ingegnere Rotoli di prendere il mio posto per questa attività breve discussione con i rappresentanti delle parti sociali quindi chiederei all'ingegnere Rotoli di prendere il mio posto per questa attività sì sì perché poi c'è il questo zainto Enrico Massaro allora interviene a questo tavolo a questo secondo giro del tavolo che aveva aperto stamattina come rappresentante della CGL Lupi ecco qua ricostituiamo qualcuno ha lasciato intanto consentirmi un commento a caldo per la presentazione di Arnese che è qui dicevo un commento a caldo a fronte della presentazione dei rappresentanti a sua musica artese che ci ha dato degli elementi di conoscenza che poi potranno anche essere sfruttati in questo secondo giro con i sindacati benvengano i documenti diciamo di dichiaramento che hanno un significato di operatività e di parlare il linguaggio delle persone perché il linguaggio legislativo spesso è criptico e hai quei rimandi al disposto al com all'uno e come ingegnere pur essendo ormai destinato a un'attività amministrativa e diciamo che faccio fatica nonostante l'esperienza comunque la connotazione di ingegnere mi porta a fare cose che abbiano quel senso di concretezza di operatività che poi restituisca valore al sistema delle imprese ai lavoratori e quindi dicevo questo documento io auspico che questa diciamo la riunione di oggi che è lo start up dell'accordo favorisca l'integrazione fra tutte le componenti istituzionali datoriali sindacali per condividere tutto quello che è stato fatto e fare sistema perché se da un lato il ministero con il gruppo di lavoro condotto dall'ingegnere candereva e all'assessura di queste istruzioni linee guida questo documento ha una valenza tale da poter essere integrato e arricchire questo documento di linee guida anche attraverso rappresentazioni grafiche semplificative che siano proprio nel senso di una vera e propria linea guida quindi ecco io ringrazio perché è stato interessante la presentazione do subito la parola al rappresentante della CGL per questo giro diciamo a valle di questa sessione tecnica che ci ha dato questa all'abusivo visto che sono devo ringraziare Sebastiano per il cambio in corsa è da oggi che abbiamo problemi con l'audio c'è qualcuno che litiga con l'after right allora Enrico Massaro delegato SLC CGL sindacato di categoria lavoratori a conoscenza lavoratori spettacolo sono anche tra i promotori tra gli attori gli artefici del tavolo legalità e sicurezza partito oramai al 22 dicembre del 2011 all'indomani all'incidente di Trieste a questo tavolo partito in forma spontanea hanno partecipato e fanno parte tuttora in maniera molto assidua molte delle persone presenti in platea tra cui Gianni Cicalese presidente di cooperativa Luca Guidolin presidente di Rigger più che presidente di cooperativa ti presento come uno dei personaggi sul mondo delle strutture e gli appendimenti a righi in Italia e non solo a cui hanno partecipato anche Artese Paolo De Biase come confronto tra categoria e organi di rappresentanza l'unico neo diciamo del tavolo legalità e sicurezza a oggi è che non è un organo realmente rappresentativo cioè non è un'associazione ma è semplicemente un collettivo spontaneo che con l'aiuto della CGL e non solo sia chiaro anche delle centrali cooperative che oggi sono le grandi assenti qui hanno lavorato già dal 14 marzo del 2012 quando con l'ingegnera Fantini ci siamo trovati ancora al ministero del lavoro era ancora funzionario del ministero e non solo poi anche a luglio sempre del 2013 ci troviamo a confrontarci in merito alla marcatura CE delle strutture al nomino bisogna ci siamo sempre spesi per un concetto perché quello che io sento e ho sentito oggi mi lascerebbe emozionato allora abbiamo il decreto palchi che siamo a posto normativamente abbiamo le buone prassi abbiamo la formazione abbiamo di tutto e di più però ho in platea un collega che è uno dei tour più belli ultimamente ha mandato un report delle ore lavorate si parla di 18 ore di lavoro continuate anche l'orario è sicurezza l'orario fa parte del sistema fa parte della gestione del cantiere fa parte della gestione del lavoro fa parte della pianificazione del lavoro fa parte di tante cose i tempi di riposo e tutto quello che ne viene assieme sono arrivate segnalazioni in cui piani di montaggio di motori di strutture avvengono in simultanea rispetto ai lavori sotto il palco pertanto lavoratori in altezza con l'appendimento di strutture e cose che avvengono con facchini o chi deve portare materiale sotto queste persone che hanno dei corpi o degli aggeggi che possono cascare e fare del male ora di fronte alle linee guida di fronte alle leggi di fronte a tutto io ritorno a quello che si discuteva il 14 marzo del 2012 al ministero noi abbiamo un problema di natura sistemica di organizzazione del lavoro non mi basta semplicemente avere un protocollo che dopo ribadisco giustamente il collega Calleri ha detto pertamente che deve essere integrato dalle parti sociali non mi basta il decreto palchi che prendi in esame le strutture e non prendi in esame l'organizzazione del lavoro bisogna fare un passetto oltre prendiamo col sorriso io prendo col sorriso come categoria quello che è stato fatto finora ma non mi basta pertanto se c'è giustamente l'apertura dall'INA per integrare la raccogliamo proprio al balzo proprio a braccia aperte e aspettiamo un primo appuntamento utile per andare un po' sull'organizzazione del lavoro sul sistema sulla prevenzione reale che non è solamente la formazione l'informazione la progettazione ma è andare a vedere come viene sviluppato poi il lavoro perché altrimenti resta tutta carta che si ammucchia grazie ecco infatti stamattina parlavamo dei sistemi di gestione della sicurezza del lavoro che devono essere quei sistemi di natura partecipata e l'accordo INA e Assomusica ci consente di allargare il tavolo con questa partecipazione per fare un focus di linee guida applicativa di questi sistemi applicati al contesto faccio però anche riferimento a quello che ha detto anche Onelli nella tavola istituzionale dove a un certo punto dobbiamo capire quanto è poi salute e sicurezza sul lavoro e i sistemi di gestione salute e sicurezza e quanto invece alcune fattispecie riguardano il tavolo della contrattazione del contratto collettivo che appartiene alla sua stessa direzione e l'altra faccia della direzione che gestisce il dottor Oneli e che non vedo ovviamente l'INA perché non ha quel tipo di in merito al contratto nazionale noi 6 novembre del 2014 abbiamo firmato il primo contratto per i lavoratori in cooperativa dove c'è la specifica prima volta all'elno nazionale della storia repubblicana delle mansioni purtroppo lì non è solamente il contratto nazionale perché le cooperative possono rispettare le normative sugli orari ma poi a monte non vengono rispettate su un piano di produzione che noi avevamo chiesto di inserire al decreto palchi come manifesta dichiarazione dell'organizzazione del lavoro e questa cosa non è stata accettata nella revisione del decreto palchi speriamo che venga inserito darei adesso la parola a Lupi si chiama di essere veloci perché credo che ne abbiamo tirata molto lunga poi rampi dopo si arrabbi no tanto grazie per averci dato questa ultima possibilità di una di una replica anche perché veramente adesso lasciando stare quella che era la parte critica sono emersi oggi degli interventi molto interessanti intervento di Artese di dottor Morone c'è ancora che poi tra l'altro ci sono alcuni spunti la parte della formazione anche se è un esempio specifico però sono tutti concetti che sono utili ed è quel famoso scambio di esperienze di tutti gli spunti che servono in questo settore ma a noi che ci occupiamo un po' di tutti i settori poi sono sicuramente fondamentali da poter trasmettere quelle cose positive che emergono a prescindere dall'ordine del giorno di oggi dall'argomento di oggi credo che sia opportuno ringraziare l'ingegnere Rotoli per cosa rappresenta e anche il dottor Ronelli per chi rappresenta per le dichiarazioni che hanno fatto proprio della importanza e ruolo delle parti sociali nella contrattazione non voglio ripetere quello che ho detto stamattina ma è fondamentale almeno su questo campo sugli obiettivi di salute e sicurezza credo che il confronto sia fondamentale poi su altri tavoli vabbè ci litighiamo facciamo tutto quello che ci vuole non siamo convocati va bene tutto su questo credo che l'impostazione in e nel ministero del lavoro in questa fase sia molto positiva e credo che bisogna darne atto due o tre elementi fondamentali che appunto preso spunto alla relazione è importante rimettere in discussione alla fine esempio ASL Milano il ruolo dell'Expo ispezione ma assistenza assistenza supporto il ruolo dell'istituzione degli organi di vigilanza deve essere anche molto indirizzato al supporto in questo caso ovviamente stiamo parlando di un ambito particolare specifico i grandi eventi ma l'obiettivo è comunque che gli organi di vigilanza diano supporto alle imprese e ai datori di lavoro soprattutto per quei casi piccoli micro e piccole imprese che hanno più bisogno e nell'ottica di quello che si sta facendo nella parte positiva delle semplificazioni credo che sia fondamentale ci sono delle direttive molto chiare da parte dell'Europa così come anche nel nostro governo e nel Parlamento di mirare quella sorta di strategia condivisa dalle parti sociali mirare proprio al supporto alle piccole e medie imprese credo che sia fondamentale e quindi è emerso questo fatto è importante amplificarlo espanderlo un po' a tutte le realtà perché ancora oggi anche gli organi di vigilanza sono molto differenziati da territorio e territorio ma lo sappiamo molto interessante anche anche se questo non è una cosa nuova il fatto di che l'Asla aiuti a semplificare la documentazione per quelle che sono tutti i certificati da produrre è un elemento di semplificazione ma è anche un elemento di certezza per chi fa sicurezza a parte dell'impresa ma anche per le parti sociali che hanno la possibilità in pochi in poche cioè molto velocemente di poter anche verificare se le situazioni sono a norma o meno Ingegner Fantini faceva riferimento agli organismi paritetici anche questo anche questo è un elemento fondamentale ce ne sono tanti i finti gli organismi paritetici sono dei soggetti fondamentali nell'ottica dell'impostazione del decreto 81 e credo che su questo Ministero del Lavoro principalmente dobbiamo lavorare molto proprio per identificarli chiaramente e fare in modo che se reali e rappresentativi lavorino fino in fondo l'altro elemento fondamentale cioè fondamentale per me ecco da soggetto che conosco poco il vostro settore ovviamente avete tutti parlato in queste relazioni tecniche della sicurezza riferita ai lavoratori giustamente però chiaramente ci sono anche i non lavoratori che in quel momento sono gli spettatori è già finita la costruzione del palco però tanto maggiore la professionalità tanto maggiore la cura tanto maggiore la formazione tanto maggiore è la conoscenza della situazione si evitano gli errori perché poi non è solo riferito un rischio ai lavoratori ma come ben sapete è riferito anche a tutti quelli che ci girano attorno quindi anche quest'ottica di ragionare sempre maggiormente nella formazione e nella cultura complessiva che non stai solo rischiando di farti male tu ma puoi rischiare dopo un'ora che l'incidente sia molto molto più grave ecco che la preparazione la conoscenza la consapevolezza che la formazione e la cultura della prevenzione sia fondamentale è l'elemento principale chiudo ripetendo quello che ho detto all'inizio stamattina tutto questo nasce dal coinvolgimento di tutti i soggetti mi sembra che l'indirizzo sia grazie per il riconoscimento di apertura il nostro sforzo da partire sarà sempre quello appunto di fare condivisione l'esperienza formativa di cui alla presentazione dell'ingegnere Lucchesi è un'esperienza formativa sulla quale noi potremo costruire in ottica di sistematizzazione di un modulo formativo specifico anche con ovviamente con Asso Musica e le parti sociali per far sì che non siano interventi sporadici dovuti diciamo alla estemporaneità ma siano diciamo risposte strutturali di INAIL a livello nazionale che siano quindi per tutti i territori io chiamerei il presidente Rampi del CIV il nostro consiglio di indirizzo e di vigilanza per il suo intervento per poi dopo lasciare lo spazio al question time ma io ringrazio rubo pochi minuti oltre a esprimere un plauso per l'iniziativa e per il successo dell'iniziativa in termini concettuali perché le parole che ho sentito anche poco fa indicano che un risultato è stato raggiunto quello di aprire un circolo virtuoso di confronto però non voglio neanche scappare dal ruolo il ruolo che noi abbiamo non è un ruolo di carattere operativo è un ruolo di indicazione di indirizzi di carattere strategiche e generali abbiamo riflettuto su questa materia a cominciare da un aspetto prettamente INAIL che è un aspetto di un pezzo della storia attuale dell'INAIL quello di carattere assicurativo perché proprio sulla base degli eventi degli incidenti mortali dei grandi palchi la legge di stabilità 2014 ha migliorato la situazione delle condizioni di riconoscimento del danno di carattere assicurativo per la peculiarità dei lavoratori non è riferito solo a questo settore ma è riferito a tutte le attività e in questo settore ce ne sono parecchie entro cui c'è una discontinuità nell'attività lavorativa e quindi dove al danno e al dolore del danno subito ne conseguiva anche un calcolo del risarcimento di quella che si chiama in termini tecnici la rendita molto contenuta e la legge di stabilità invece ci ha dato una mano applicando dei massimali di carattere assicurativo che almeno possono provvedere a un ristoro del danno subito in maniera più significativa ma non ci siamo fermati lì nel senso che nel nostro percorso di riflessione dentro la importanza che stiamo attribuendo in termini di risorse dell'Inail al tema della prevenzione il tema della prevenzione va declinato in tutti i suoi aspetti io sono tra coloro che hanno sostenuto e sostengono per fortuna in buona compagnia l'importanza di un'operazione che probabilmente è nata per altre ragioni come quella di portare dentro l'Inail l'ISPELS questa questione della ricerca e accanto alla ricerca la questione della certificazione e dell'omologa e delle prove distruttive ci fornisce degli elementi molto importanti per progettare percorsi di crescita qualitativa il dibattito tra di noi è un dibattito guardando anche alle esperienze europee quest'anno destineremo il nostro seminario di riflessione proprio al tema della prevenzione in chiave europea confrontandoci con l'esperienza oltre che tedesca inglese e danese attorno a questi elementi la nostra esperienza ci spinge a dire che l'INAIL può essere precursore del consolidamento di norme di legge addirittura proponendo agevolazioni di carattere tariffario e di sostegno di carattere economico laddove c'è l'applicazione di norme più avanzate che sono anche il risultato del percorso di ricerca che all'interno dell'INAIL e di sperimentazione e di verifica che all'interno dell'INAIL si stanno facendo quindi questo è un percorso che credo interessi molto non tanto il lavoro strutturato ma il lavoro che si sta seguo Lupi di pochi minuti fa o l'altro collega delle organizzazioni sindacali di pochi minuti fa di un lavoro la cui gli elementi di strutturazione si stanno compiendo in itinere questo è quindi l'altro elemento sul quale noi stiamo investendo terza considerazione è molto importante da questo punto di vista andare fuori tema io che presiedo un organismo fatto da parti sociali mi prendo questo arbitrio di andare fuori tema bisogna parlare della sicurezza del lavoro nelle sue diverse declinazioni nel senso che l'aspetto della sicurezza sul lavoro nel luogo del lavoro è un elemento importante ma come veniva poco fa citato si intreccia con la possibilità di strutturare di erogare e di sostenere percorsi di carattere formativo i percorsi di carattere formativo sono legati anche alla questione della tipologia del rapporto di lavoro e qui ci sono nella acquisizione più recente da parte dell'IMS delle esperienze di carattere contributivo dell'IMPALS ci sono degli aspetti che in qualche maniera erano sottesi stamani all'intervento del presidente dell'Agis Carlo Fontana cioè ha posto un problema più generale del mondo del lavoro io credo che in questi settori vada posta una attenzione che coniughi assieme la questione della breve durata di alcuni interventi del costo del lavoro e della possibilità comunque di erogare i livelli di qualificazione i livelli di formazione che si intrecciano tra quelli destinati alla sicurezza e quelli destinati alla qualità di carattere professionale che in qualche maniera per la tipologia per la grande presenza del lavoro autonomo per la grande presenza delle partite IVE forse dovrebbe trovare anche un pacchetto di sostegno di carattere economico più ampio e con il concorso di una pluralità di settori è una cosa molto complicata perché mentre l'INAIL ha nella sua pianificazione di carattere economico nella sua ricerca di equilibrio economico destinato all'attenzione di sostegno a questi percorsi una quota delle proprie risorse ad esempio in altri campi come quello di carattere della contribuzione preventiva non si è giunti ancora alla questione di pensare che una quota dei contributi di carattere legati alla previdenza possono essere destinati a sostenere un percorso di carattere formativo anche se guardo il dottor Fantini nella esperienza consolidata della sua periodo di direzione del Ministero la questione del legame tra formazione professionale e contribuzione è stato un elemento di carattere importante forse anche qui bisogna pensare di portarlo a sistema per ultimo voglio ricordare da questo punto di vista il valore sul quale ho detto all'inizio e chiudo con questo mi sembra ci sia nel risultato dell'iniziativa dell'ingegner Rotoli e dell'INA nel suo complesso della direzione prevenzione cioè creare sempre più anche quando ci sono opinioni diverse delle occasioni per consolidare dei momenti di carattere relazionale questo elemento è un elemento di fondo è un elemento che stava alla base della 626 di oltre 20 anni fa ma che è un elemento da ripercorrere ed è un elemento sul quale ad esempio le esperienze di gestione della sicurezza di carattere relazionalmente intrecciato come i comitati paritetici ci danno dei risultati fortemente positivi quindi io sono un propulsore di questa esperienza perché è un'esperienza che mette a fattore comune riesce a sostenere anche con i nostri contributi anche con la nostra partecipazione anche col nostro sostegno tecnico di carattere economico di carattere formativo delle esperienze e delle esperienze che vanno oltre che vanno che affrontano e traducano la normazione attorno alla questione della prevenzione attorno alla questione della sicurezza in pratica e quindi in garanzia e misurano la qualità e la bontà di questi risultati attraverso la verifica dell'obiettivo io sono molto d'accordo con le considerazioni anche sull'osservazione di carattere statistica che questa mattina faceva il presidente De Felice e quindi l'osservare il guardare il sostenere un percorso sempre di evoluzione mi sembra molto importante d'altro canto bisogna mi è venuta questa mattina un flash un flash che in sala vista l'età pochi ricordano il primo grave incidente attorno a uno spettacolo che ha avuto la amplificazione di carattere mediatico è 21 agosto 1960 se si leggono le cronache di quell'avvenimento quanta acqua è passata sotto i ponti perché quell'avvenimento è un avvenimento dove Mario Riva popolarissimo e amatissimo presentatore del musichiere cade per tre metri purtroppo sulla questione di una copertura di tela che non mostrava la questione di un buco dentro il palco quindi tra quella esperienza e la questione di oggi noi abbiamo un percorso un percorso lungo un percorso di 55 anni dentro il quale in itinere si sono fatti passi in avanti il problema è progettare l'ulteriore evoluzione costruire l'ulteriore evoluzione e io credo che questo possa avvenire mettendo le conoscenze a fattor comune e provando a trovare attraverso questo fattor comune un punto più avanzato ancora prima sottolineo molto questo aspetto ancora prima che diventi norma ma che diventi invece ancora prima una modalità e una prassi grazie grazie per l'attenzione grazie presidente allora chiamerei l'ingegnere Candreva a quale farei moderare il tavolo del question time e quindi a questo punto è aperta la partecipazione da parte del pubblico sapevo che c'era già una prenotazione ok sì vabbè io sto allora grazie allora intanto chiedo la cortesia al relatore di risalire di nuovo sul palco in modo tale che di risalire di nuovo sul palco così vediamo di eventualmente dare un contributo di risposta sia da un punto di vista tecnico che giuridico mi dicono che entro le 17 però non so che ora entro le 17 per motivi organizzative bisogna chiudere chiudere la nostra riunione un quarto d'ora va bene io rubo veramente 30 secondi soltanto semplicemente per dire che gli spunde gli spunde di riflessione penso che ne sono uscite veramente tante in questa giornata è molto interessante e molto utile da un punto di vista egoistico utilitaristico ora comprenderete perché siccome molti del gruppo di lavoro mi riferisco sia all'INAIL che alle regioni e qui ce n'è più di qualcuno che fa parte del gruppo di lavoro io ho preso appunde quindi io mi auguro che anche voi avete preso buona nota e appunde di quello di quello che è avvenuto che è avvenuto oggi e anzi chiederei veramente la grande cortesia ai colleghi delle regioni e dell'INAIL che fanno parte del gruppo visto che noi ci ci saremo convocati al ministero il giorno 20 in pratica proprio per andare per andare avanti sugli indirizzi operativi che stiamo scrivendo chiederei proprio ai vari colleghi ognuno per la propria parte di riprendersi il documento che tutti quanti noi abbiamo e magari fare tesoro degli spunti che sono che sono emersi oggi e inserirli già da subito per quanto possibile ovviamente per quanto condiviso all'interno all'interno del documento che esamineremo giorno 20 in modo tale che giorno 20 saremo il più il più fattivi possibile per quanto riguarda il nostro lavoro naturalmente tutte le indicazioni che vorrete fornirci e che vorrete darci lo ha detto chiaramente già il mio direttore generale questa mattina benvengano attraverso me o attraverso uno qualsiasi dei colleghi dell'INA e dei colleghi della regione a questo punto io direi diamo la parola a chi ha intenzione di fare magari perché no anche se delle semplici semplici ma importanti magari riflessioni o considerazioni o chi vuole fornirci dei memento come si suol dire per il gruppo di lavoro per essere il più operativi possibile o le eventuali domande naturalmente personalmente penso che risponderemo a tutte quelle dove abbiamo le idee chiare e dove siamo in grado di rispondere laddove ci sta qualche qualcosa che la stiamo già dibattendo come noto all'interno del gruppo e quindi stiamo cercando di scrivere faremo soltanto tesoro di acquisire le vostre riflessioni grazie grazie buonasera scusate magari provo così a rompere il ghiaccio mi chiamo Giovanni Corsi sono ingegnere mi occupo di eventi circa 15 anni in Italia meglio in Toscana in Spagna e qualche lavoro in Francia e solamente da 10 anni sto seguendo il pubblico spettacolo tendenzialmente la mia attività è in Toscana allora due punti all'attenzione prima di tutto sarebbe bene che anche se la normativa fosse bene evidente e nella giornata di oggi c'è stata un po' di confusione fra quelle che sono le competenze del direttore lavori e le competenze del coordinatore per esecuzione lavori ricordo che la competenza del coordinatore è per la gestione delle interferenze delle lavorazioni già sul decreto palchi si richiede al coordinatore una serie di competenze di valutazioni che viceversa sarebbero più di stretta competenza del direttore dei lavori quindi bisognerebbe evitare in assoluto che ci fosse questa sovrapposizione di ruoli che poi nel tempo può creare dei seri problemi perché alla fine come coordinatore ti trovi a dare delle valutazioni di natura progettuale che spettano al soggetto terzo chiaramente come direttore di lavori la cosa prego in molti casi tra l'altro questa figura del direttore lavori non esiste quando viceversa ce ne sarebbe la necessità proprio per una uniformità di natura progettuale e di verifica ultima che il direttore lavori deve fare in cantiere di adeguatezza della struttura a quanto progettato il direttore lavori non è alternativo al direttore di produzione ne evitiamo questo equivoco il direttore di produzione è come se fossi il direttore di un'azienda che si avvale di un tecnico esperto in questo caso il direttore lavori che dà una valutazione tecnica ma è una lezione e una domanda questo è un questione era una valutazione quindi cercare di separare la cosa altra domanda e suggerimento allora io come coordinatore ho delle serie difficoltà a valutare l'idoneità delle ditte che vengono a lavorare perché c'è un panorama di natura nazionale delle volte internazionali allora prendendo spunto scusatemi da tutta una serie di valutazioni se a livello di banca dati visto che ormai le notifiche le facciamo in forma elettronica ci fosse una banca dati del ministero nella quale vengono riassunti con qualche stellina TripAdvisor scusate la banalità le capacità delle ditte quindi quelle che sono eventuali sanzioni che le ditte hanno riportato durante i sopralluoghi magari in questo settore specifico sarebbe di valido ausilio per quelli che sono i coordinatori perché se mi arriva la ditta Pinco Pallino che non conosco o telefono a qualche collega della provincia dove è residente questa ditta ma altrimenti io dal certificato della Camera di Commercio capite bene che difficilmente posso dare delle valutazioni di merito grazie mi permetto di inserirmi perché è una questione della qualificazione sull'ultimo punto la questione della qualificazione non è possibile dare una risposta che è una cosa molto seria quella che lei ha sollevato sulla qualificazione non si può gestire in questo momento perché non abbiamo la qualificazione delle imprese prevista al testo unico il testo unico prevede la patente appunti in edilizia non è stata fatta per ragioni che non diciamo di natura sindacale perché c'è stata una parte ho capito ma sto spiegando perché non c'è quindi non c'è perché non è stata fatta la patente appunti in edilizia e quindi noi non abbiamo quella che leghiamo la banca dati che era prevista dal decreto legislativo 81 in realtà è qualcosa di più perché per una ragione che non vi sto a spiegare ma è essenzialmente dovuta all'opposizione delle parti datoriali perché bisogna dirle le cose come sono state come sono andate abbiamo i verbali della commissione consultiva che lo confermano questa cosa non c'è e quindi manda in difficoltà tutti gli operatori non solo gli operatori dello spettacolo ma anche gli operatori dei cantieri che non sono cantieri di spettacolo questa è la ragione storica poi se riusciamo a fare come dice lei anche semplicemente un elenco di soggetti che hanno una qualificazione io la vedo un po' difficile conoscendo la situazione attuale però mi fermo perché non faccio più parte del ministero io lo aggiungo è uno spunto abbastanza abbastanza interessante quello che dice dice il collega sicuramente si lavorerà sulle qualificazioni delle imprese cosa 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 verrà fuori lo vedremo in pratica noi nel decreto naturalmente qualcosina l'abbiamo richiamata e cioè all'articolo 3 per essere anche un pochino concrete su quello che c'è all'articolo 3 comma 1 lettera F leggo testualmente il committente verifica l'identità tecnico professionale mediante l'arquisizione del certificato di iscrizione della Camera di Commercio e del documento unico di regolarità corredato dell'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato 17 forse abbiamo fatto anche nell'ottica della semplificazione un passettino un po' un po' in avanti ad un certo modo ancora sempre in questa lettera F si legge nei confronti delle imprese di cuterici straniere la verifica dell'identità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo di un modello allegato 2 eccetera quindi nell'ambito dei paletti che avevamo quando siamo nati come gruppo di lavoro per dare attuazione al decreto previsto dal legislatore del decreto del fare questo abbiamo potuto ovviamente scriverlo perché vi ricordo che in ogni caso l'input che ci dava il decreto del fare e quindi il legislatore dell'epoca ci diceva di andare ad inserire questa problematica all'interno infatti era l'articolo 88 che è stato modificato di andare ad inserire questa problematica all'interno dell'articolo 88 e quindi finalmente ecco questa parola chiave all'interno del titolo del titolo del titolo 4 e poi ci diceva anche un'altra parte da non sottovalutare anzi da tenere presente io nella mia nella mia esposizione sono andato un po' anche di corsa eccetera tenendo conto delle particolari esigenze quindi ci chiedeva di operare la semplificazione così come tutto il decreto del fare cercava di andare verso la linea della semplificazione operare quella semplificazione cercando di fare chiarezza e quindi finalmente dove si sta si sta di qua o si sta di là e poi tenendo conto delle particolari esigenze nella realtà abbiamo cercato di tenere conto per esempio per quanto riguarda questa parte poi potrei dire tutte le altre che stanno sempre disseminate un po' tra l'articolo 3 e l'articolo 4 le varie io qui nel mio nel mio nel mio nel mio nel mio nel mio decreto ho scritto delle C e delle S delle S che stanno ad indicare delle semplificazioni e delle C che stanno ad indicare dei chiarimenti che era proprio quello che ci chiedeva il decreto di fare quindi quello che si è potuto fare molto sommessamente ritengo che siamo riusciti a farlo dopodiché della serie solo chi non opera non sbaglia tutto è perfettibile ma a tal riguardo non dimentichiamoci che abbiamo anche l'articolo 10 l'articolo 10 lo ricordiamo di nuovo entro 24 mesi il ministero del lavoro di intesa con il ministero della salute provvede al monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal medesimo di Pietro rielaborandone eventualmente il contenuto quindi cioè tutto è perfettibile grazie se posso aggiungere una cosa su questa parte qua in riferimento all'impresa straniere poi concludo subito con l'impresa straniere noi in Expo ci stiamo facendo le ossa praticamente come argono di vigilanza perché la maggior parte dei padiglioni saranno costruiti e gestiti da soggetti stranieri mi viene in mente l'Inghilterra e in comunità europea siamo fortunati ma mi viene in mente il Nepal il Turmenistan la Cina e chi più ne ha più ne metta noi con Expo stiamo facendo un grande lavoro di approfondimento di studio di comparazione di normative esempio la formazione esempio l'ideonità sanitaria in Inghilterra non c'è bisogno di l'ideonità sanitaria l'ideonità sanitaria è fatta solo anzi per dimostrare uno stato di patologia se io ho qualche problema vado a fare il certificato se no autocertifico eppur loro sono in comunità europea con il decreto Pagli l'allegato che diceva Michele abbiamo cercato di risolvere questo problema che però è limitato agli spettacoli Expo sarà aperto sei mesi un padiglione sarà un'unità produttiva perciò il decreto Pagli purtroppo in questo caso non possiamo prenderlo e stiamo cercando di fare uno studio d'approfondimento io spero che terminato Expo si riesca a finalizzare questo studio e in qualche modo portarlo poi in commissione per cercare di vedere quello che è stato fatto le risorse sono sempre più risicate sempre più limitate perciò cerchiamo di fare il possibile con le forze che abbiamo però è un approfondimento che stiamo cercando di chiarire meglio riprendo la parola ma non per sottrarla a nessuno ovviamente però vorrei sottolineare quello che ha detto Sant'Atene il mio direttore generale cioè il mio direttore generale se ho capito bene ha auspicato cosa che io condivido totalmente a piene mane ha auspicato perché no nei tempi necessari nei tempi più rapidi possibili perché no non fornire non chiedere alla commissione consultiva permanente l'articolo 6 proprio una buona prassi su questo che sarebbe veramente mi permetto di dire molto molto utile se noi riusciamo magari ecco ti ho scuso ora ho preso anche lo spunto da parte del collega e cioè dire dire benissimo allora questa esperienza cerchiamo di sfruttarla al meglio potremmo da qui a fine anno presentare questa buona prassi proprio con l'ausilio con l'ausilio del lavoro che viene fatto da Espo e naturalmente da chi altre può meglio se fate una linea guida perché tutte le aziende con le quali collaboro vorrebbero avere un'idea di che cosa chiedono gli organi di vigilanza in tutta Italia in caso di valutazione dell'identità tecnico-professionale questo è un suggerimento come consulente non come esperienza tra la buona prassi e la linea guida che la buona prassi è adottata volontariamente la linea guida è a vincolo agli organi di vigilanza nell'esercizio di attività di vigilanza e scusate se è poco i tempi per le cioè la linea guida però in realtà dico solo che è stata fatta una sola finora se mi risulta punto mi scusi volevo riallacciarmi al discorso sulla semplificazione io sono un'azienda installatrice di strutture e per quanto riguarda diciamo adesso non saremo nel caso di strutture minori non saremo più soggetti all'emissione del POS ma per quanto riguarda tutte le altre documentazioni vanno abolite completamente perché qui si dice che i POS non saranno più richiesti oppure ci sarà a discrezione del committente no allora in realtà cioè forse c'è un problema terminologico nel senso che il fatto che non si faccia il POS significa che non applicandosi il titolo quarto evidentemente non faccio il POS che è il documento di dotazione del rischio per lo specifico cantiere però però vuol dire che io comunque si appunto quindi cambia il nome il documento non cambia l'obbligo anzi l'ho detto prima del mio intervento attenzione forse è ancora peggio non fare il POS perché il POS ha un contenuto che è determinato parlo della passione giuridica non di quella tecnica non mi permette è un documento il cui contenuto è stabilito all'allegato 15 quindi so di che morte devo morire sperando che non muore nessuno ovviamente né che si faccia male nessuno sto dicendo metaforicamente mentre invece nel secondo caso io mi devo creare un documento il cui contenuto non è necessariamente definito una norma di legge diventa un problema di tipo tecnico cioè sono tenuto comunque ad elaborare un documento che ha contenuti sostanzialmente analoghi anzi quando io faccio i corsi di formazione dico potete anche prendere come riferimento il POS e riportarlo tal quale nel titolo primo perché quello che conta sono le misure di tutela non se lo chiami duvri o lo chiami POS scusate la volgarità quindi per noi per come siamo strutturati diventa più semplice fornire continuamente i documenti sì sì ma più che di documenti mi permetto di dire perché io so che lei la pensa come me però è meglio ancora fornire la misura di tutela dopo di che mettiamo un documento in cui indichiamo quali sono le misure di tutela che sono state adottate perché il documento viene dopo la misura di tutela questa è una cosa che non è solo filosofica ricordatevi che anche le norme di legge sono scritte così anche quando si parla di documento di valutazione del rischio il documento di valutazione del rischio dice l'articolo 28 vado a memoria le comma 1 comma 1 2 lettera A dice che deve contenere una relazione relativa alle misure di tutela attuate mentre io spesso continuo a vedere DVR con misure di tutela non attuate quindi quello che è più importante è la misura di tutela poi la descrivo nel documento e non è una discussione filosofica su questo Lorenzo ha tolto il po' di bocca nel senso che noi che omorgono di vigilanza quando ci hanno fatto i controlli non partiamo mai dai documenti cioè non è che arrivi in cantiere dammi il documento il posto io guardo quello che c'è in cantiere controllo i problemi verifico le situazioni e poi recupero la documentazione dipende perché tante volte prima fermano i lavoratori e chiedono tutti i documenti e poi dopo fanno le verifiche ci sono vari accertamenti varie tipologie come ASL l'accertamento ha un certo no in questo caso per semplificazione conviene mantenere lo standard abituale e non si sbaglia funziona prevenzionisticamente la chiamate Pippo Pluto Paperino Peppa Pig come vi pare basta che funziona dal punto di vista prevenzionistico lo vedo come avvocato difensore cioè alla fine è meglio portare davanti a un giudice un documento che è sbagliato nell'intestazione ma corretto nella dimensione prevenzionistica che porta agli uno che è perfetto è fatto benissimo dal punto di vista grafico che non conta niente dal punto di vista prevenzionistico perché non solo non fa male ai lavoratori ma fa male pure all'avvocato che non li riesce a difendere quindi le due cose vanno di pari passo sì perché mi scusi solo per concludere perché poi a cascata ci sono anche i subappaltatori quindi di conseguenza tanto vale la pena recepire tutti i documenti scusate se posso completare scusate se ho la presunzione di completare ma il problema grosso è fare la sicurezza cioè noi se ragioniamo in termini di post PSC o altro ma noi il dispositivo fondamentale è l'analisi del rischio di sito abbiamo scritto il sito deve essere guardato poi tutto quello che io metto sopra l'interferenza e tutto quindi è fondamentale per tutti noi che ci facciano un'analisi del rischio fatta bene e poi produciamo il documento che vogliamo naturalmente quello che è applicabile grazie una domanda forse un po' forse troppo tecnica mi riferisco al collega Sassone nel fare la progettazione diciamo strutturale per questi palchi da quello che ho capito io non sono un esperto di di palchi ma quello che ho capito non viene preso in considerazione vista la temporaneità l'opera temporanea l'evento sismico quindi non c'è correlazione tra l'evento sismico e lo spettacolo perché è considerato temporaneo al di là dell'aspetto di chi sia capace per vedere quando venga l'evento che non è detto che non avvenga quando c'è lo spettacolo ma questa temporaneità fino a quanto è estesa affinché non venga esclusa l'applicazione delle norme antisismiche e se si supera questo limite quindi sarebbe da applicare quale sono le norme che vanno applicate quelle regionali o quelle a livello nazionale che ci sono delle discrepanze tra le due estremamente per individuare la pericolosità dell'edificio o delle in questo caso temporanea tra virgolette temporanea grazie ottima domanda finiamo domani quando è che allora una puntualizzazione non è come diceva nel senso che non è sempre vero che le azioni dinamiche non vanno calcolate l'opera temporanea se particolarmente aggravata da situazioni quindi opera temporanea è opera temporanea ne abbiamo parlato nel momento in cui l'opera temporanea può creare e nella sua organizzazione spaziale un'opera tale dà è evidente che non si può non contemerare anche quel tipo di azioni dinamiche di sicuro non era possibile nello spazio colpa del nostro coordinatore del tavolo ma in realtà nel prossimo incontro che faremo andremo a evidenziare questo genere di attività la norma comunque lo prevede in maniera molto chiara nel senso che nel momento in cui ci sono delle opere temporanee che hanno particolari complessità vanno dimensionate e vorrei anche vedere parliamo di Expo io ho fatto un po' di ginnastica in quel sito posso confermare che le opere temporane dei padiglioni seppur considerate unità operative unità produttive ai sensi del titolo 1 e di quello che poi ne consegue da un punto di vista strutturale sono dimensionate e verificate anche alle azioni dinamiche discorso diverso è per le strutture che evidentemente non hanno una connotazione particolarmente complicata è motivo per il quale possono essere calcolate e verificate tenendo conto del manuale di uso e manutenzione degli schemi di montaggio e degli schemi strutturali funziona come per i ponteggi per intenderci nelle costruzioni dove lei non va a verificare le azioni dinamiche perché prende in considerazione quelle che sono le azioni indicate dal costruttore e fabbricante nel manuale di uso e manutenzione o del calcolo del ponteggio dell'opera provvisionali secondo le condizioni di esercizio fuori da quelle condizioni di esercizio anche se l'opera è una di quelle opere temporanee provvisionali e dotate di un manuale di un calcolo come nel caso dei ponteggi fuori da quelle condizioni di esercizio ritorniamo di nuovo in un'opera che rappresenta nella sua organizzazione spaziale un'opera diversa da quella che era inizialmente prevista quindi lì bisogna di nuovo ricalcolare le azioni dinamiche sul concetto temporale invece anche noi diciamo addetti ai lavori devo dire abbiamo qualche perplessità perché il concetto di attività che si svolge in un lasso di tempo definito ahimè in questo momento lascia un po' la mara in bocca perché nessuno di noi è in grado e io devo dire personalmente ho ricevuto questo quesito in taluni altri consessi all'interno delle quali poi qualcuno diceva ma io vorrei fare ma qualcuno è in grado di dirmi dove è scritto quando finisce un'opera temporanea e quando diventa definitiva e non sto parlando di unità produttiva motivo per il quale bisogna predisporre il DVR e altre cose qui stiamo parlando di tecnica delle costruzioni modalità per la quale dobbiamo garantire la sicurezza dei fruitori oltre che dei lavoratori nel transitorio di montaggio beh questo devo dire lascia un po' la mara in bocca e nello spirito però di dare delle indicazioni concrete mi rifarei al consiglio dato da Lorenzo poco fa su altre tematiche se non posso o non sono in grado di definire la modalità idonea sulla scorta di oggettive indicazioni normative io nel caso in cui applico l'attività che mi permette di innalzare il livello della sticella a situazioni che mi permettono di dimostrare l'attuazione quindi è un ragionamento se vogliamo induttivo più che deduttivo ma non vedrei altre situazioni ecco chiedo ai colleghi se hanno la stessa idea il concetto è questo io ho visto tanti progetti e i progetti sono calcolati sia per le azioni dinamiche del vento sia per quanto riguarda la sismica e chiaramente il concetto non è che l'opera ha il ciclo di vita però in quel momento è così anche perché questi non sono progetti che sono soggetti a deposito quindi il genio civile interviene nelle commissioni provinciali e non si può partire con lo spettacolo se il genio civile non ha visionato il progetto statico e non c'è stato un professionista che ha dato un corretto montaggio io dico corretto montaggio loro esasperano di più la cosa dicendo collaudo però questo è calcolato sarà fatta una circolare sì ma devo dire non registro un'applicazione costante mi capita di essere in varie parti d'Italia non registro un'applicazione costante nei tavoli tecnici anche nel pubblico spettacolo con il genio civile direi però posso portare se volete se abbiamo ancora mezzo minuto un esempio ad esempio tendo strutture perché quando parliamo di queste attività poi dobbiamo anche un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo e parlare di cose concrete tendo strutture che evidentemente ricadono nell'ambito del campo di applicazione della direttiva del decreto o in tutti i casi di tutte le altre normative afferenti e circostanti abbiamo questa tendo struttura che viene in tutti i casi un'opera temporanea può rappresentare oltre che una manifestazione di pubblico spettacolo anche un appendice di un luogo di lavoro e in quest'ottica voglio dire l'Expo ha molto da dire nel momento in cui diventa un appendice ed è una struttura non isolata nel senso che è limitrofa ad una struttura fissa permanente quella struttura quella tendo struttura individuata e pensabile soltanto perché temporanea nel momento in cui come in questo periodo fosse soggetta a condizioni meteo di ventilazione esagerate una struttura del genere non può supportare 20 superiore a 90 km a ora deve essere evacuata e questa attività è inserita all'interno dei manuali che i fabbricanti di quelle strutture trasmettono rispetto ai quali bisogna fare i conti immaginate cosa significa una previsione di questo tipo nell'ottica di una struttura non isolata ma anche se fosse isolata ma siccome ci piace complicarci la vita ragioniamo con la sticella più alta significa che nel momento in cui vi dovesse essere una struttura di questo tipo non soltanto mi devo preoccupare di verificare l'adeguatezza del montaggio oltre che evidentemente della trasmissione dei carichi verticali si parlava del vento ma devo adottarmi di dispositivi che mi permettono nel momento in cui c'è una prescrizione come questa di quando sono in prossimità di quel valore evacuare quella struttura e pormi il problema di cosa avviene nella gestione emergenziale dei luoghi limitrofi perché abbiamo parlato di struttura limitrofa da altre strutture preesistenti magari luoghi di lavoro cioè vola via il tendone cosa succede allora le problematiche sono particolarmente complesse evidentemente devo dire che il decreto parchi ha fatto delle introduzioni sono d'accordissimo con quello che dicevano i colleghi utili a gestire degli approcci ma resta l'approccio principale che deve essere quello di nel momento in cui non sono certo di quello che faccio devo alzare il livello della sticella per garantire per l'appunto i livelli di sicurezza sufficienti che sono previsti nelle normative vigenti se posso aggiungo anche io anche io qualcosa ma semplicemente perché è un po' provocato insomma e mi riferisco a opere provisionali al settore dei ponteggi che diciamo conosco abbastanza settore dei ponteggi il settore dei ponteggi naturalmente ne abbiamo discusso in lungo e in largo con il professor San Paolese dell'Università di Pisa che sicuramente molti di voi conoscono il settore dei ponteggi generalmente è una struttura estremamente snella voi capite bene ha una massa inerziale estremamente snella e diciamo che 99 su 100 sto parlando del settore dei ponteggi 99 su 100 il settore dei ponteggi è abbinato a una struttura fissa di conseguenza c'è una una differenza di massa tra la struttura del ponteggio e la struttura fissa per esempio questo edificio se noi domani mattina dovessimo realizzare un ponteggio costruire un ponteggio all'interno all'intorno di questo edificio ebbene questo edificio ha dei movimenti ha dei giochi rispetto alla struttura opera provisionali pari a zero in buona sostanza allora che cosa significa andare a fare un calcolo sismico di una struttura che intanto è una struttura temporanea è una struttura provisional è una struttura che ha dei tempi molto 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 inferiori rispetto alla struttura edificio in questo caso dell'Inail ma molto probabilmente come dire ci preoccupiamo molto di più del 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 io sto parlando del sisma il vento se esatto esatto tempo di ritorno è uguale a due anni Cesc posso per evitare per evitare di allora totalmente d'accordo così evitiamo di totalmente d'accordo con quando io non volevo fare un intervento lungo però ringrazio il collega totalmente d'accordo con il collega però la mia è una domanda retorica ma se c'è il sisma ci preoccupiamo di che cosa ci preoccupiamo dell'edificio che crolla perché tenete conto che il ponteggio è aggrappato è agganciato ci sono degli ricordate ogni 22 metri quadri addirittura è agganciato all'opera servita il ponteggio ma diciamoci la verità se c'è il sisma ci occupiamo del ponteggio che crolla o ci preoccupiamo semmai dell'edificio che non deve crollare tanto è vero che la norma è molto chiara il collega l'ha spiegato benissimo solo per vostra informazione nelle autorizzazioni ministeriali che rilasciamo sapete che vengono rilasciate dal ministro del lavoro c'è un gruppo di lavoro che collabora costantemente con l'INA e il materiale nel rilasciare le autorizzazioni ministeriali alla costruzione e all'impiego di ponteggi metallici ebbene c'è il calcolo del vendo di servizio e del vendo di fuori servizio di condizioni di lavoro fuori servizio neve e in condizioni neve e si arriva per quanto riguarda il vendo a un calcolo di circa 136 km all'ora cioè tutte le autorizzazioni ministeriali che voi vedete in Italia che sono state rilasciate e autorizzate sono tutte calcolate per un vendo di 136 km che tutto sommato è abbastanza interessante comunque io direi forse non è il tema questo in questo momento se c'è qualche altro spunto o qualche altra riflessione è abbastanza interessante sul nostro decreto palche ma soprattutto perché come dicevo prima da un punto di vista egoistico ci può essere utile nella riunione di giorno vendi che abbiamo grazie chiedo un'altra cosa riguardo alla portanza del terreno di cui si è parlato prima uno strutturista che si trova a dover fare il calcolo ovviamente da un'altra parte magari di dove avviene l'evento cosa si deve far dare lo so ma visto che non non viene mai dato cioè le caratteristiche di portanza del terreno come si risolve questo problema io non rispondo mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché fai la stessa domanda la domanda è chi la dà la sigma del terreno allora ci vuole una relazione geologica ci vorrebbe una relazione geologica ma di solito si va anche nell'intorno ti dicevi che c'è l'intorno c'è che vedere nell'intorno poi chiaramente il terreno tuo è diverso da quello che è accanto però di solito puoi anche usufruire di quella indicazione è importante avere comunque un'indicazione chiedo scusa tutto questo parte secondo me da un assunto provo a dare non do una risposta confermo la primo genitura no tutto parte dalla necessità di dover garantire che vi siano all'interno dei comuni dei siti dedicati a effettuare le manifestazioni in quest'ottica con questa evidentemente visione si può arrivare a definire e ad associare ad ogni sito quelle caratteristiche o quei requisiti che poi consentirebbero di nella fattispecie è evidente che in assenza di questi siti e quindi di questi requisiti in questo momento nessuno è in grado quindi la persona che deve fare delle valutazioni non le può fare assolutamente sulla base di una sigma ma sulla base di criteri oggettivi evidenza probabilmente prendendosi oltremodo delle responsabilità voglio fare una domanda a Lucchesi se va via non vada via Lucchesi ancora due minuti c'è una domanda mi sa che è molto personale in questo caso la domanda ma visto che ci è andato un po' intorno torniamo al vento parliamo di struttura montata con torri layer e quindi copertura modulare tirata su con motori e chiaramente ancorata con cancelli e con catene una volta che è in azione visto che abbiamo un po' girato anche intorno alle commissioni di gianza e quindi non sono poi così scollegati i problemi della sicurezza e mi fa piacere che ci sia stata un'apertura anche su quella che riguarda il pubblico prescrizione in caso di condizioni atmosferiche e quindi può succedere la condizione atmosferica del vento che avviene durante la manifestazione la copertura deve essere tirata giù ora la domanda è la mia risposta ce l'ho però come si può risolvere il dilemma io se non tiro giù la copertura passo dei guai ma se la tiro giù forse ne passo quattro anziché uno perché nel tirarla giù cambia tutta quella che la struttura cioè la struttura è collaudata per essere in opera nel momento in cui io la vado a smobilitare quindi devo togliere i cancelletti devo togliere le catene devo tirar giù i motori in questa fase che può durare 5 minuti come 10 minuti come un quarto d'ora soprattutto se le condizioni sono improvvise e strane che succede? che sarebbe meglio non prescrivere questo e lasciarla su come sta anche perché viene collaudata a seconda della zonizzazione se in fondo a un molo in mezzo al mare c'è una valutazione di zona X il collaudo deve essere in funzione di quello anche un po' superiore quindi non capisco perché questa prescrizione qui il problema è grosso perché qui appunto però io ho tutte le state e non dormo la notte perciò era personale la cosa ti dico la Michelangelesca che viene fatta su piazzale Michelangelo a Firenze ha l'anemometro inserito e ti dicano nel momento in cui questo si registra perché te fai anche un discorso di previsioni del tempo ti riesci a prevederlo non dico in quell'evento particolare ma le previsioni ce le hai qual è il discorso bisogna che tu cali almeno quello che mi è successo tu cali non devi fare altro che fare in modo che i motori ti facciano scendere la struttura e te quello spettacolo forse non lo fai nemmeno e questo è il problema con Vasco Rossi nella foto che ha messo l'ingegner Cantreva abbiamo tenuto l'anemometro per un mese per calcolare la media anche dei venti e per lavorare durante gli allestimenti quindi gli accorgimenti sono infiniti però purtroppo la legislazione non è mai adeguata purtroppo io devo darmi una non buonissima informazione cioè ci hanno già intimato da almeno dieci minuti di chiudere ci hanno ospitato però insomma ora bisogna anche chiudere dunque se non ci sono veramente altre altre riflessioni veramente io vi ringrazio alla prochaine fois grazie ho sentito parlare di quello l'ultimo però non è che ora probabilmente qualcuno di me c'è andato grazie a tutti